Tra un po' è Pasqua, esatto, sì, qua non finisce più sta cazzo di sala d'attesa. Bestiacce, bentornati, finalmente, oggi ci si rilassa e ci si incarta. Stasera, ragazzi, stavamo parlando in questi dieci minuti male di voi, soprattutto del genere femminile che tanto ci piace e tanto ci dispiace. Come state, Bestiacce? Tutto bene? Mi fa molto piacere. Allora, stasera, ragazzi, con noi c'è un ospite speciale, la nostra Andrea del 1988, che ci farà compagnia, però prima ovviamente TGD, no, solite stronzate, e poi saluti, e poi iniziamo. Chiacchieriamo, forse reaction, forse no, chi lo sa, e poi anche giochiamo insieme a qualcosina, mentre che questo mette il dito sulla telecamera. Non riesco a metterla dritta, porco demone. E siccome oggi non è un Horror Night, stasera non c'è nessuno. Come state, ragazzi? Canale Morente, canale Morente. Voi più fedeli, a cosa giochi? Ma io cosa minchia ho appena detto? Porca madonna, però, ragazzi. Io che cosa ho appena detto adesso? Guarda, siamo in live da... È un minuto, ho fatto un monologo di un minuto che è andato al vento, così. Con tutto il bene, con tutto il bene, ragazzi. Andrà il 1988? Ah, il Diver, se glielo chiediamo subito, se ci dice di sì, sappiamo cosa fare stasera, è incredibile. Si, 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 va, basta. Grande Valerio, è così che si fa grande bestiaccia. Non ho bestemmiato, ragazzi, ho detto porco demonio. Poi, se credete nel demonio, è un altro discorso. Per forza, se uno è cristiano, dovrebbe credere anche nel demonio. Cioè, concettualmente c'è il... Però, se uno è cristiano, crede in Dio, quindi non è un'offeggia al demonio. Dovresti adorare il demonio. Allora, tu hai detto, madonna, non siamo dei coglioni. Smettila di prenderci per il culo, per favore. Abbiamo capito benissimo quello che hai detto. Ma io non lo so. Esatto. Oh, finalmente. Ogni tanto, anche senza Horror Night, non fa male a nessuno. Infatti, ma soprattutto, non fa male a me. Allora, bestiaccio, direi di partire con la meravigliosa, il meraviglioso Tg Dino, però la sigla la dà il maestro. Vai. Pa 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 pa. Mister Sandman. Ah, sì, non c'è. Ah, che imbarazzo. Pensavo ci fosse la censura della sigla. È un coraggio da leoni, cazzo. È incredibile, è incredibile. Fate così, se non avete il coraggio, ci sono censurati. Andate in giro con una sigla, portate. Sì, con una maschera, fate le rapine, insomma. Tanto il cazzo ve ne frega. Ovviamente si scherza, bestiaccio e Twitch, noi non legalizziamo questo utilizzo della propria persona, però spingiamo nel vendere la propria persona, perché no. Allora, notizia principale, fondamentale. Intanto Godzilla e Kong The New Empire si becca a sei. Un film che non sapevo neanche fosse uscito e che a vedere da questa copertina credo che non guarderò mai. Basta si fin del cazzo, porco demonio, dai. Infatti si chiama proprio così Godzilla e Kong The New Empire. Basta si fin del cazzo, porco demonio, dai. Concettualmente questo è il sottotitolo. Mentre che Star, come vediamo, sta giocando a Dragon's Dogma 2, anche se gli ho detto di no, non farlo è un gioco di merda. Però lui non mi ascolta. Non mi ascolta anziché venire in live. Star è uno dei pochi... Ditegli che abbiamo parlato male di lui, per favore. Che compra i giochi, che... Altra notizia che fa debellare il senso di, non lo so, di ingiustizia nel mondo. Proprio dici, oh, è giusto così. Hanno fatto una classifica e pensate, il 45% dei giocatori sostiene che il Gotis lo becca a Final Fantasy, metteteci un numero che volete, tanto è sempre uguale, oppure è il Divers 2. E il 55% dei giocatori dice che il gioco dell'anno sarà il Divers 2. Quindi sono molto felice per questo, mentre il 45% dice che sarà Final Fantasy. Questo 45% non ha giocato il Divers 2. È palese. Poi, sappiamo che, scopriamo, incredibile ma vero, che Christopher Nolan ha chiamato proprio di persona il buon Jake Gyllenhaal, dicendogli, ascolta, va che tu non lo fai Batman. Ma come non faccio Batman? No, tu non lo fai più Batman. Ma dovevo farlo io? No, non lo farai Batman. E gli ha messo il telefono in faccia. Tratto da una storia vera, ragazzi, purtroppo lui non ha fatto Batman per un soffio, ovviamente per colpa di Nolan, che gli ha detto no. Sono belle queste dinamiche dietro il palco, di cui non ce ne frega. Una bene amata. Sì, infatti, ma che cazzo ce ne interessa? Madonna, ti si è sentito malissimo per un attimo. Poi... Parla al microfono. Sì, ma non nel... Cioè, parla normale, non dentro al microfono. Sì, hai ragione. Ciao, ciao, ciao. No, che noti, si sente bene. No, crete una tazza di libertà. Eccoci. Quelli di Gearsbox confermano un nuovo Borderlands in sviluppo, però... Grazie a Piragna per i 50 abbonamenti. Oh, la Madonna, sei fuori di testa. Ma ti fermatelo, per favore. O di Piragna, carnivore. Ma a chi rubi i soldi? A chi li rubi i soldi? Riciclando il danaro. Sta riciclando il danaro, è palese, è palese. A noi ci fa piacere comunque essere in mezzo di pulizia, mi va benissimo. Sempre puliti, ovviamente. Sì, sì, sì. Infatti, pensa, mi chiamavano PapiCiulo, PapiPapi, fashion clean, quando ero più piccolo. E' una crevipasta su quella canzone. Piragna tattico nucleare. Ascolta che sto sudando. Allora, fa un caldo becero qua in questa casa, anche se ci sono meno otto oggi. Ma non importa. Allora, fermi, perché vi devo dare l'ultima notizia, che in realtà non è una notizia. E' una roba che dobbiamo fare al volo volissimo, perché poi dobbiamo metterci in collegamento con il buon Andrea. L'altro, Andrea. Guardate qua il trailer. Ve lo faccio... Aspetta che intanto... Aspettate, scusatemi, faccio un delirio, però devo vederlo anche il maestro. Condividi schermo. Olè, olà, or su, o giù. Di qua, così, fatto. Il trailer di due minuti e quattordici, indovinate di che cosa? Nuovo trailer, eh? Di Zouciosi. Se riguardiamo, l'un altro, l'ennesimo. Via. Eh, parte uguale all'altro, però. No, è diverso questo, guarda. Ah, spoiler, ci sono i ragni. Ah, quindi non è ambientato in Australia. C'è un ragno gigante sopra... Bene. Bene, però... Mi piace un botto sto gioco, non vedo l'ora che esca. Horror, simulazione, bodycam. Basta musica? Supply. Supply è buonissimo. Fish eye. Che in inglese vuol dire fish eye. Chissà per quale cazzo di Zou lavora, perché queste sono bestie dell'inferno. Parco delle cornelle. Ah, già impacchettata la carne umana? Buono, buono. Vabbè, ma questa è giustizia. Vegetables. Ah, ok, quindi... E devi dare da mangiare alle bestie. E quindi anche simulativo, in parte. Devi comprare anche il cibo, mi piace un botto. Già, non vedo l'ora di giocarlo, ragazzi. Devi comprare il gorilla. No, non credo, quello... Ah, dici che sia tipo gestionale, eh? Eh sì, devi gestire lo zoo. Madonna mia, pensavo stesse sbrattando. Mi chiedrà se pisci così, però io... Eh, io piscio così, scusate. Eh, ma coi pezzettoni, cazzo. Mi piace... Stringo pure i denti per sentirli. Ma che culo. Adoro. Ce lo voglio subito. Ma che cazzo stiamo a aspettare? Lo voglio adesso. Mi dispiace molto perché sta visualizzando e sta cenando allo stesso tempo. Ragazzi, questo è un gioco... Imparate a cenare a quest'ora. E questa è la esatta scena di stamattina col mio cane. Cioè, c'è il silverback, è avuta. Sì, è un silverback. Il mio cane sembra un orsacchiotto di 45 kg. Beh, raga. Ah. Daisy, Luna, Misty. Ah, sono tre donne. Sono una donna? Ha detto sì, Daisy. Cazzo, non sono fatti bene però gli animali. Oh, il canguro. Vabbè, quando è che diventano dei mostri? Eccoci. Ma c'entra la droga. Attenzione. Mi vado cyberpunk, per motivi ignoti. Sì, sì. Ma perché c'è scritto tranquillizza? Ma hai fatto degli italiani? Tranquillize. Tranquillize era in inglese. Tranquillizer. Tranquillize. Tranquillize in inglese. La Lise. Disneyland Paris in Carolina del Sud. Take your medicine, buddy. Non vedo l'ora che esca, morca puttana. Non vedo l'ora che esca. Però ci vuole, ce ne vuole di tempo, ce ne vuole. Intanto, scusate, fatemi chiudere. Cazzo era? Era una pubblicità occulta, Andrea. Lascia perdere. Allora, vi saluto, bestiace. E direi di collegarci con l'Andrea. Va bene? Finalmente vediamo anche il maestro. Come? Ma che? Andrea, lui? O l'altro maestro? Di chi state parlando? Allora, fermi tutti. Eccoci qua. Maya, Katie, Polifemo, ovviamente. Brian, Ema, eccolo lì, il nostro bestiaccia, il nostro bestione. Daxin, Emax, poi chi altro? Daddy, Legion, Elsinel, il Dio del Tuono, Valerio, ovviamente. Onegea, Gab, Chernobok, Lilith. Guardate come si sta lavando. Dex Toys, Dio. Il mondo è il più bello così. Minchia, andrà a sedi uno strabico. Kill Joker. Togliti gli occhiati. The Peef, fammi vedere. Vai. Vabbè, ma non c'entra un cazzo. Ah! Sono coincidenze. The Peef, poi chi altro? No padre, ve ne prego. Fox, Ice, Ilaria, Pirata Nudo, Pioggia Cremesi, Joe Killer. Ma sai quanto si scottavano i pirati? Nudi, ovviamente. Lord Akami, Silesia, Fede Gillico, Binno, Fanel, poi Zonari e ultimo, ma non l'ultimo che è l'ultimo degli ultimi, ragazzi. Anzi, facciamo un elogio al buon Piragna che ogni sera sborsa... Grazie Piragna. Sborsa non so quanti soldi per dare, anche Sabatino, per dare a voi le sub per poter partecipare poi su Telegram ai progetti secreti di CopTV e anche addirittura a giocare insieme, vincere i giochi, queste robe qua. Quindi io direi di fare un applauso a questi due che sono i top... Cazzo sbadigli, io sono qua, che sto a prendere il mio cuore, tu ti permetti? Sì, certo. Direi di fare un applauso a questi due che sono qua, che appunto regalano, regalano a tutte quante le bestiacce quello che possono. Attenzione, attenzione, porterei mai Assassin's Creed Valhalla? Vabbè, procediamo, procediamo. L'ultimo, ma non ultimo, non per questo il meno importante, è... Fermi, fermi, fermi. La banana stronza, è un piacere, bestiaccia, benvenuta. La banana stronza, perché ci sono banane anche gentili. Dipende da dove le infili, benvenuti, bestiacce, nella casa del signore, non riuscirò mai più a rifare quell'intro, non so per quale motivo, ma non importa, comunque gentilmente la occupo, questa è la morale fantasiosa. Io direi di connetterci adesso con Andrea, solo che non so dov'è... Ma se faccio tipo così... Aspetta, eh. Se faccio tipo così... Crea gruppo. Ci siamo. Adesso lo staremo disturbando tantissimo in live. Ciao. Ma non tu, l'altro Andrea mi... Ciao. Stasera la birretta, Dino, ragazzi... Dino, devi fare un horror, Abgo Day, per contratto. Minchia, Gesù. Ve lo devo raccontare di nuovo? Cosa è successo in piscina? Il cardiologo, il cardiologo. Quando il dottore, quando il maestro di nuoto mi disse, avanti adesso galleggia. Io sono morto affogato quel giorno, perché non gliel'ho voluto a dar vinta. Che è di psicologia inversa. Assolutamente. Assolutamente. È giusto così. Allora, aspetta che vi scrivo su... Su WhatsApp. Ti dico... Ehi tu. Maschione. Cos'è che... Cos'è? Amore mio, se sei pronto, dimmi come cazzo facciamo a comunicare. Ah, aspetta. Se siamo con StreamYard o con altre cose, perché non so cosa... Come facciamo. Che succede? No, gli sto scrivendo quello... Lo sto chiamando su Discord. C'è un attimo di silenzio che mi ha destabilizzato. Ah. Oddio, relazione segreta. Sì, infatti la Vale non lo sa ancora, però vabbè. Adesso è pubblica. Mi dispiace, ragazzi. Amore, com'è che si legge quella cazzo di A, O, quella roba lì? Fica, se non la smettete... Adesso io veramente elimino il canale CoopTV official su Discord, se non la smettete, se non trovate qualcosa di più salutare da fare, se non trovate qualcosa di più salutare da fare, veramente, guarda. Non so, prendete una laurea, non so. Ah, sta aprendo Discord? Oh, grazie, grazie Vale. Eh, scusa il cazzo, scusa. Ma togli sto dito dalla telecamera. Attenzione, che succede? Beh, ok. Ah, mi sta chiamando di là. Pronto? Salve. Con quale voce incredibilmente sensuale me lo stai dicendo? Perché ho sempre paura di entrare nella chat sbagliata, mi chiamano in molti, quindi... Allora ci vado schiscio, che non so mai con chi sto parlando. Ho capito, ma se fai così, più che sbagliata, pensano che sia una chiamata porno? Eh beh, ma io il presupposto lo do, poi dopo... Ah, giustamente, comunque potresti anche arrotondare, è una voce che si presta molto a questo tipo di mercato. Grazie, grazie mille. Io per dire ho appena sborrato quattro volte, per cui... Ma grazie a me o... Lo metto sul curriculum? Sì, sì, grazie a te ovviamente. Allora scrivo, Holyfans, Dino Coptiv Holyfans, l'ho fatto sborrare quattro volte. Aspetta che intanto faccio entrare quell'altro. Quell'altro, poverino. Però devo creare un gruppo, quindi aspetta. Allora, Dino, come facciamo? Perché io adesso ho messo a full count per evitare che mi si veda tutto a Discord. Noi come ci organizziamo ora? Non lo so. Bene, mi sembra un'ottima soluzione. Aspetta, aspetta che intanto facciamo partire la chiamata anche con l'altro Andrea, così... Mi sembra un'ottima soluzione. Una cosa, un problema alla volta, sono un uomo, non riesco a gestire più di una cosa. Aspetta. Hai ragione, io neanche una, quindi... Io ho... Pronto? No. Pronto? Eccoci, eccoci. Oh... Pronto? Ciao, da dove digitate? Eccolo. Io sono di Torino, bel maschione. 50 euro, culo, 25 bocca. Ah, subito, subito, subito al sodo, mi piace. Il mercato odierno richiede rapidità e velocità, quindi voglio dire... E la regola dei social, è vero, è vero. E allora... Tenere alta l'attenzione all'inizio. Mi stavo consultando con il buondino per capire esattamente come stracazzo facciamo a vederci tutti, perché o usiamo StreamYard, però ovviamente non so cosa sia, quindi... E quella che mi è stata usare l'altra volta. Ah, sì, 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 sì. Quello che c'è il logo della papera, giusto? Esattamente. Quello che casualmente ha il logo della papera. Ma non ti sei beccato una denuncia per queste cose? No, veramente io dovrei denunciare loro, visto che, voglio dire... E fallo, che stai aspettando? Ho un buon avvocato. Adesso ti scrivo, aspetta, ti impasso il numero sul... Serve. No, ti prego, un altro no, ne ho già due di avvocati. Col terzo diventerebbe un po' troppo dopo... Il famoso team di avvocati. Esatto, ho il team di avvocati che si querellano l'un l'altro per arrotondare. Allora mi passi tu il loro numero, per favore. Perché io ho rischiato due denunce in questi mesi, quindi... Due giorni. Sì, vabbè, in realtà giorni, vabbè. Aspetta, aspetta, questa cosa me la devi raccontare. Però come facciamo? Utilizziamo StreamYard? Ma se vuoi restiamo qua su Discord. Ah no, però è vero c'è il problema della telecamera. E come fai? Non ci vediamo, non ci vediamo. Però bisognerebbe fare il layout. Vabbè che ci vuole un minuto. Come si chiama? No, Andrea è successo. Aspetta, come fa? Bene, usiamo il stream. Maestro, perché sennò qui non si capisce un cazzo. Andrea B. Andrea B. Andrea 2. Andrea Beta. Io sono Andrea 1, non ti azzardo. Io non ho capito un cazzo. Neanche io. Sei sminchiato tutto. Vabbè, Andrea, allora... Allora, qui c'è un problema. Come vi devo chiamare? Si è rotto il programma. Chiamami 88, faccio aprire. 88, ok. Non parlavo con te 88. Ok, perfetto. L'altro Andrea... Era sparito. Ok, perfetto. Era sparito. Ok, quindi adesso ci siamo di nuovo. Perfetto. Ora che ci siamo, perfettamente adesso. Il problema è che come usiamo... O usiamo tutti e tre la camera su Discord, però io non ho idea di come si faccia. oppure utilizziamo StreamYard, se volete utilizzarlo, perché non è che voglio obbligarvi a utilizzare StreamYard. Proviamo StreamYard. Proviamo StreamYard, però devo fare così. Faccio cosa? È facilissimo. Basta semplicemente che disattivi la cam da OBS e tanto ti ci vede su StreamYard. Ah, aspetta. Inizia è gratis. No, ma faccio io se vuoi. Ah, fai tu. Ci inviti tu? Se vuoi sì. Ok, ok. Ma in automatico va anche sulla mia live? Ma questa è magia. Sì, praticamente. Allora... Ma non mi scassare il cazzo e fammi entrare. Dai, non mi romper le palle. Allora. Ok, inizia. Allora aspetta. Ok. Devo disattivare. Dunque... Allora... Si vede che siano giovani. No, non è che... Non è che... Mi... Allora... 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 Un attimo. Ok. Non so perché. Dunque, vediamo un attimo. Però togliamo Andrea del N-word. Rimettiamoci il vecchio nome che tanto oramai voglio dire. Dunque, adesso... L'audio funziona! Adesso disattivo un attimo la cam. Disattivo la cam in modo che me la legga streamia. Ah, ma ci collega direttamente a Twitch. Ok, perfetto. Perfetto. Eccoci qua. Adesso faccio entra in studio. Quindi in teoria dovrei aggiungi qua. Bene, in teoria sono arrivato. Ora la mia live non sta vedendo un cazzo. Adesso, in teoria, io ora vi mando... Anzi, ti mando su WhatsApp, Dino, il link. Tu semplicemente clicchi, entri e ci siamo. Allora, vado su WhatsApp. Sarà molto divertente perché io sono un totale novizio di streamer. Quindi sarà molto divertente come cosa. Ma come? Ma non l'hai creato tu, streamer? Non l'ha pap... Non abbiamo capito la storia. Non posso querelarlo se dico che l'ho creato io. Quindi devo far finta di non averlo creato io. Ah, ok. Allora, adesso sto entrando. Accesso allo studio in corso. Caricamento. Accettato. Noi non vi ho detto un cazzo, ragazzi. Un attimo. Adesso datemi il tempo che... Il browser ha bloccato il microfono e la videocamera. Devi disattivare la videocamera da OBS. Proprio clicca sul webcam col destro e fai disattiva. Uccidi. Aspetta, dov'è? Uccidi? Sì, uccidi telecamera. Aspetta. Uccidi. Ma qua? Da qui? Com'è che... Testo destro, dicevi... Proprietà disattiva. Poi dopo basta che fai tasto destro e proprietà riattiva. Ok. Disattiva. Fatto. Ok. Che è successo? La live si è uspurata. Sono stata portata le modifiche. Vuoi salvare? Ho paura. È la madonna. Le modifiche... Ok. Salva. È la madonna. Che ho fatto? Ma se vado qua c'è ancora? No, ok. Adesso è disattivato. Perfetto. Quindi poi devo andare qua su coso. Ah, che bella. Sembra una live vera adesso. Perché? Accesso allo studio in corso. Io sono contento di non aver ancora riattivato la camera e nessuno vede perché camera mia ha un casino fuori dal mondo. Ebbè, è normale. Allora, consenti. La polvere rossa dentro il computer, sulla scrivania. Allora, eccoti qua. Perché ti sento triplo, doppio? Mamma mia. Perché siamo anche su Discord. Allora, adesso aspetta che entri Andrea. Allora, come faccio a entrare? Gli hai mandato il link di no? Ovviamente no. Effettivamente no. Aspetta. Abbiate pazienza voi in chat. Arrivo subito. Scusate, scusate ragazzi. Stiamo lavorando per voi. Allora, intanto io chiudo la chiamata su Discord perché tanto ho bisogno, visto che tanto voglio dire siamo qua. Allora, effettivamente lo faccio anch'io, va. Disconnetti, chiudi, chiudo Discord. Allora, qua così. Perfetto. Qua cos'ha? Qua cos'us? Qua faccio sì. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Un attimo, io non sono pratico. Sto faticando, sto faticando. Non preoccuparti, devi solo mandargli il link. Il link glielo ho mandato. Il problema adesso è la live. Cosa c'è che non va? Devo far vedere a schermo quello che sto vedendo io. Vai. Aspetta, adesso ci riesco. Adesso io. Ma cos'hai? Cioè, hai il tasto di reaction? Non so come dire. A post? No, ho sistemato. Mettiti pure full schermo e se vai su reaction, non so se hai il tasto per far vedere lo sfondo di qualcosa. No, 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 no. Ecco Andrea, perfetto. Ecco Andrea, eccoci qua. L'audio funziona perfetto a tutti e tre. Sì. Ma sa, 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 dovrebbe andare. Adesso io ho sistemato anche, in teoria dovrebbero vedere, è nera. Allora, già spriva di tutto, non ti permetto di utilizzare questo linguaggio razzista nelle mie live. È nera, non si dice. Si dice lo schermo è di colore. Diversamente colorato. Puoi, Dino, io adesso ti volevo, adesso io ti volevo, ho preparato questa cosa solo per te, anzi per te Andrea. Ansia. Perché ho bisogno di sapere, ho bisogno di avere anche le vostre risposte. Ho trovato in una pagina, questa è una cosa vera, non mi sto inventando niente, la lista di domande più stupide mai fatte da uffici governativi e eventuali enti simili americani per ottenere la carta Visa. E c'è una lista di tot domande, praticamente, che loro facevano, se tu facevi domanda, e io adesso ho bisogno di sapere. La green card, praticamente, sarebbe. No, 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 ma sì, mi ha bisogno di sapere esattamente tu cosa avresti risposto a questo domande. Va bene. Allora, la prima domanda, e qui ci tengo a precisare, non mi sto inventando niente, sono domande veramente state fatte. Domanda 1. Fai parte di un clan o una tribù? Sì. Beh, io sì, io sì, io sì, del clan sì. Sì, anche io. Io faccio parte di una tribù? La famiglia la possiamo... Vabbè, i mormoni, i mormoni e anche l'altro. Metà della mia famiglia è del sud, quindi possiamo definire parte tribù, parte clan, in realtà è un po' difficile da spiegare. Sì, anche la mia realtà, abbiamo dei riti sciamanici propizzatori molto interessanti. Sì, 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 sì. Sì, ci mettiamo intorno alle donne e facciamo dei bucacchi incredibili al chiaro di luna per... Bellissimo. Ululando, ululando. Esatto, per il raccolto dell'anno prossimo. Domanda dopo. E io, Gisela, posso usare queste domande? Te le facevano aspettando la tua risposta sempre. Ma pensa a quello che sta dall'altra parte sudando, perché effettivamente appartiene un clan o una tribù. Cioè, quindi... Ma ragazzi, ma è come sull'aereo che c'è quel foglio che ho scritto trasporti, armi, da fuoco, bombe? O una tribù. No, ma queste secondo me fanno più ridere, perché la prossima è... Hai mai fatto uso o sei un abusatore, un utilizzatore, diciamo, di dro... Sono di Bologna. Beh, effettivamente. Vabbè, anche a Milano non si scherza. Beh, vabbè, però io essendo di Bologna mi sento proprio... Posso raccontarti la mia... Una piccola esperienza che ho avuto a Bologna. E allora, ero andato a Bologna, non mi ricordo, avevo alloggiato un BNB, adesso non mi ricordo quanto tempo fa. E proprio è la prima cosa che mi è successa. Ero in periferia. Con audio basso in chat. Il mio audio o l'audio di chi? No, l'audio di Andrea. Il mio audio è basso, cercherò di stare più vicino. Nella nostra chat. No, ma io lo sento benissimo. Ma io lo sento bene, ragazzi. Mi metterò più vicino, ragazzi, nel caso continuate a dire. Aumento il volume di qua, ok, così dovrebbe sentirsi di più. Praticamente, appunto, ero lì in questo BNB, scendo, perché dovevo andare a mangiare, e la prima cosa che mi è capitata, dopo praticamente essere entrato, ho preso le chiavi e ho aperto la camera, è che ho incontrato questo tizio, che, diciamo, faceva parte di una tribù, e mi dice, mi si è spenta la macchina, aiutami a spingerla. Cioè, uso di droga. Non mi ha detto né ciao, né scusami, per favore ho bisogno di una mano, mi fa, mi si è spenta la macchina, aiutami a spingerla. E io ho risposto, e io ho risposto, sì, subito. E ci siamo messi, perché mi sentivo, non so perché, mi ha coinvolto. Tu puoi rispondere a una domanda del genere. Ma come te l'ha chiesto? Te l'ha chiesto, mi si è spenta la macchina, aiutami a spingere? O ti ha fatto, bella fratello, senti. No, no. Mi si è spenta la macchina. No, no, sembrava Skyrim, un NPC, è arrivato così, proprio a mani tese, si è messo davanti, mi si è spenta la macchina, aiutami a spingerla, e poi è andato via dietro l'angolo. Ci ho pensato, ho riflettuto i pro e i contro della situazione e ho deciso di farlo. E dietro c'era un appunto grigia, una delle portiere aveva un altro colore, non mi ricordo adesso. Bello, bello. Sì, sì, caratteristico. Le fanno dubbe le faste. E l'abbiamo spinta contro mano verso la strada principale, contro mano specifico, che era quella che andava sul BNB. E basta, e questa è stata la mia prima esperienza. Io ho detto, ma bello qua. No, no, ma è così che funziona, Dino, qua a Bologna spesso aiutiamo gente a spingere auto contro mano, cosa proprio una tradizione cittadina. Ah, ok, proprio appena arrivi. Vabbè, non è la città dai trenta all'ora adesso Bologna. Sì, tra l'altro, lascia perdere. Ma non è anche qua così, perché io sto andando a trenta così giusto per far incazzare gli altri. No, qua si va, qua si va perché non c'è una legge scritta, ma Bologna sì. Qua non perché non si riesce a non andare. Bologna è diventata una roba incredibile. Mi sono trovato davanti un neopatentato l'altro giorno che andava ai trenta. Cioè, mi sembrava di essere un nonno 96enne che guida la macchina. Sembrava un Giorgio degli Aristogatti, è presente. Cioè, mi mancava solamente la leva da tirare. La penna, la svitare. La donna, via che incubo i trenta orari. Comunque, domanda tre. Questa domanda è molto interessante. Hai intenzione di venire negli Stati Uniti per coppire attività di prostituzione? Sì, sì, sì. Ma perché? Io avrei detto sì, ma solo orale. Io il culo non è solo orale. Io non capisco, ma si aspettano che qualcuno risponda... Cioè, perché dovrei dichiarare una roba del genere? Magari qualcuno è onesto, non lo so. Vogliamo sapere quanto è anche, voglio dire, il costo, il prezzo. No, per vedere se si adegua alle regole di mercato odierne. Ah beh, ok. Il bello è che più avanti più migliorano. Cioè, questo è l'inistro. Ah, è come il vino, è come il vino. La quarta per me è quasi... Non è poesia come la sei. Però ci stiamo avvicinando. Perché la quarta dice... Sei venuto... In che senso? Sei venuto... No, non col pisello. Quello era riferito alla domanda prima. In tutti i sensi, secondo me. Sei venuto negli Stati Uniti... E tu, non ancora, giustamente. Troia ci vado dopo, ma... Sei venuto negli Stati Uniti per coppia in attività di sabotaggio, spionaggio o esportazione contro le violazioni delle leggi americane? Minchia, ma... Ma è esp... Ma è incredibile. È in senso di esportazione o è esp... O è esp... Fenomeni paranormali. Ma scusami, ma che cazzo di domanda... Lei è una spia del KGB? Sì? A cazzo, porca troia! La ringraziamo... La ringraziamo per la sua... Comunque dov'è che si fa il questionario? Per il meme sono disposto a rispondere sì a tutto. Quando poi la C mi sequestra... Ti dà la cittadinanza, Andrea Osho, eh? Il tuo presidente... La 5 è direttamente collegata, però è più semplice, più di concisa, più diretta. Fai parte di un'organizzazione terroristica! Sì. Sì, sono nella CGL, quindi più o meno puoi dire... Allora, guarda, anche qua ho un qualcosa di carino da raccontare. Allora, era il periodo natalizio. Era il periodo natalizio. Per ovvi ragioni, una bambina si ferma per strada e mi guarda e mi fa... Guarda! Ah, il McDonald's, me lo ricordo. No, che c'entra il McDonald's? Dopo mi racconti quello del McDonald's, perché non ho la minima di cosa tu stai dicendo. Guarda, guarda, papà, babbo natale. E il padre della bambina, guardando a me, il padre mi fa... No, 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 non è un babbo natale, è un musulmano. No, l'ha detta molto più cattivo. Era il McDonald's comunque, era quello. E se ne va. E io... L'ha detta molto più cattiva al signore. Non ha detto semplicemente musulmano, era molto più cattivo. Sono rimasto per un attimo... Ok. Povera, gli hai rovinato il Natale. Cioè, hai distrutto il Natale alla bambina. Era tutto un po' confuso. Era tutto un po' confuso. Un musulmano. Definizione di musulmano, persona... La barba lunga, la barba lunga. Con pochi capelli e la barba lunga. Ma non fa una piega. Comunque non ha detto solo, non ha detto semplicemente è un musulmano. Ma cos'ha detto? No, non dirlo, però cos'ha detto? No, steniamoci, stia l'ha detta molto più cattiva. Però c'era la stessa che dicevo, eravamo al McDonald's, mi ricorderiamo. Ma è bellissimo questa cosa, così completamente a caso. Ma poi Babbo Natale con i muscoli, ma che cazzo di Babbo Natale ha visto la bambina? Con tutti i patti che carica sulla seletta, sai? Io ero felice. Io gli ho detto, Babbo Natale, che carina. Ho detto, la bambina, piccolissima, no? La roba a dire, ha distrutto tutto. Adesso la bambina pensa che Babbo Natale è capo dell'ISIS. Siamo sul mano. Sì, sì, quello mi sembra un norvegese capo dell'ISIS. Carica le renne con la dinamite e fai gli attentati terroristici. Sì, sì, sì. Comunque tu abiti in un posto magico. Perché a me di deliri così sono capitati. Però devo dire che abiti in un posto fantastico. Cioè, ci sono proprio degli elementi nella storia in cui vedi che esternano delle perle di straordinaria e rara bellezza. Ma io voglio scappare da qui per questo motivo. La peculiarità di Milano. Come quella volta, io finisco di farla live, 23.30, porto fuori i cani verso mezzanotte. E mezzanotte scatta proprio l'ora delle scimmie. Quando tu esci, qua c'è il parchetto del liceo. Il parchetto del liceo si sa che quando il sole cala... Sì, sì, le mandre di sanghi arrivano. Esatto, esatto, esatto. C'è il punto di spawn proprio lì. Io ho visto due scene particolari. La prima, ho visto due ragazzi, uno che era dentro la macchina e l'altro era sul tetto a surfare la macchina. Io ero fuori col cane. Questa è la forza di un uomo dovremmo raccontare. La forza di un uomo è meravigliosa. Quindi questo ragazzo in macchina con questa ragazza che stavano litigando. A un certo punto lei inizia a tirargli i ceffoni a lui. A mano morta. A mano morta. Lui inizia a piangere. Lei inizia a piangere. Questa è la forza. No, lui cos'è che ha fatto? No, lui piangere. Lui era lì che cercava, non faceva niente. Era tipo un pungible, però era lì comunque che accusava il colore. Sì, era smorto dentro, poverasce. Questa è la forza di un uomo. Ma gli ritirava senza vergogna. A mano morta. Sbam. Sbam. Sembra tipo dei colpi di asciugamano. Era una roba sarana. Io credo che loro pensassero di essere dentro la bolla della loro brava. Lui era fermo, imperterito, non faceva nulla. Manco cercava di pararsi. Aveva una lacrima maschia che scendeva qui. E si vede che non voleva reagire. Che dovevi farci? Non è che puoi obbligarlo. Voglio dire, reagire. Ognuno reagisce a modo suo. Cioè, diciamo, ognuno la prende a modo suo. Io fai conto, io sono molto vendicativo. Cioè, nel senso, io quando la mia ragazza mi fa il solletico all'improvviso, la prendo, la stringo e la lancio dappertutto. Quindi voglio dire... Ah, perfetto. No, vabbè, sì. Nel senso, per me lo sanno come funziona. E per me c'è un'azione e reazione. Cioè, se mi fai il solletico qui sui fianchi, io per un mese ti fico un dito nel culo quando sali le scale. Cioè, per me questo è il regolamento base che va applicato. Ah, ok. Sì, sì. No, vabbè, io quello non si fa così, giusto? Mio. Solitamente... Però vabbè, lì. Sono i regolamenti di base non scritti. Oh, attenzione. Scusate, perché ci hanno delle chiacchiere, ma non voglio fermi. Questa, secondo me, forse è una delle più belle. Poi voterete voi, ma questo qui, secondo me, è una delle più belle. Ok, ci siamo. Hai mai partecipato a un genocidio? Ma come si fa? Come si fa per il genocidio? Io gli avrei risposto no, ma la giornata è appena iniziata. Ebbè, giustamente. Non si sa mai come può finire. No, ma mi piacerebbe anche, si potrebbe giocciare. No, no, ma la notte è giovane. Ma come si fa? Cioè, ma c'è tipo un po'... No, allora, tu entri, Andrea, loro ti fanno un timbrino, accade quello che accade, poi tu, se vuoi, puoi uscire, basta che fai vedere alla guardia il timbrino e rientri al genocidio. Beh, dipende, se consideriamo le formiche, io tutte le restate, con la guerra batterologica che faccio le formiche in casa mia... Potrete dire che io ho ammazzato intere, milioni di formiche, quindi magari vale, magari ti mettono in galera, eh? Beh. Questa è una cosa che mi riguarda personalmente, però io qua devo mentire, perché se no non mi farebbero entrare, quindi io qua ammetto le mie colpe. Ti chiede, sei mai stato direttamente coinvolto nella esportazione di organi umani? Boh, non si è mai levato un rene mentre dormivo, non lo so. Sì, però era per la scienza. Ma la parte strana è regolarmente coinvolto, cioè una roba che si fa... Ma anche il sangue era... Cioè, nel senso una cosa che fai spesso. Ah, direttamente coinvolto, ok, ok. Sì, e vabbè, voglio dire, d'altro canto con gli affitti che ci sono qua a Bologna e anche a Milano, i reni bisogna tiarli fuori, se no qua il mutuo non lo si paga mica, eh? Effettivamente. Solamente con le sub, cioè qua bisogna tirare fuori. Comunque è allucinante, perché io so che qualcuno avrà risposto di sì a queste domande, a tutte queste domande. Ma quanto va l'urrene sul mercato? Qualcuno ci dia delle cifre in chat? Dipende dall'età, però siamo intorno ai 5-10k, più o meno. Ah, vabbè, pensiamo di più. Poi dipende anche a chi lo vendi, eh. Perché dipende anche il compratore a chi lo vendi. Anche come. Quindi dipende. Cioè se lo spiatti, se lo metti sopra un telo da spiaggio. C'era un ragazzo che ci aveva parlato, è andato tipo da Joe Rogan al podcast, che era nato in Brasile, una ragazza ci provava con lui, la ragazza l'ha drogato, si è svegliato in mezzo al nulla senza un rene, perché appunto era una di quelli che... Vabbè, costa molto più di 5.000 euro, ah sì? Quanto vale? No, lo sto chiedendo, perché quanto vale in chat ho tutta gente che si occupa di traffico di organi. Infatti, se informazioni dove le avete preso? 50k, dicono da noi. No, non dicono, il nostro moderatore mi preoccuperei, il nostro moderatore dice 50k. Però qua, io qui ho cifre che non sono concordanti, mi è partito un 15, 30, 20... Il mio rene vale 20 euro. Dai 15 e 40. Sì, potrebbe anche essere. Eh, 120k, un milione, mille milioni. Io non ho mai trovato nessuno che me lo comprasse a 40k, comunque, però... Cioè, volevo dire, andiamo avanti. Va anche a peso. Ma immagino... Adesso che so quanto vale, occhio ad accettare bevande da me. Ma immagino vada anche a peso, poi c'è la classica domanda. Ci sono 200 grammi in più che faccio, lascio? Quindi sono caratteristici. Sì, pensa che è brutto, vai con una ragazza, ti svegli senza un rene. Cioè, veramente terrificante come cosa. E poi, giustamente, te ne levano solo uno, perché se te ne levassero due... E se no, muore, è un problema. Se no, devi rimanere in dialisi per tuttavia, è un problema, muori malissimo. Però, vedi, questa domanda che arriva dopo si collega pure appunto direttamente alla domanda di prima. Chi va bene? Hai mai commesso tortura? Questa è bellissima. A cuor leggero. Ma che cosa intende? Definiamo tortura, perché non è una definizione specifica la parola tortura. Definiamo tortura. Se io la ragazza la sedo col cloroformio, la rapisco e la metto nello scantinato e lei non si accorge di niente. È effettivamente tortura o essendo incosciente... Discreto e pulito, discreto e pulito non dovrebbe essere... Essendo incosciente, tortura non c'è stata. Non c'è stata nessuna coercizione, quindi voglio dire. Povero Dino. Occhio non vede. Penso che la tortura sia considerata tortura se c'è una tosse di dolore, immagino. No, io in realtà sto pensando se ho fatto... Posso denunciare il mio commercialista quando vi manda le cartelle... Ma quella è tortura psicologica, perché non è dolore psicologico. Posso comunque denunciare il mio commercialista. Se dicevi Dino scusa? No, dico, stavo pensando se ho per caso commesso delle torture, giusto per... Nel mio database... Beh, le cavallette che mi hanno torturato da piccoli. Perché ormai, parliamoci chiaro, in questo periodo storico, qualsiasi cosa può diventare, non so, un'offesa a un altro, una tortura psicologica, molestie. Quindi potrebbe darsi che... Poi siamo bianchi e cattivi, quindi... Sì, direi... Effettivamente, vabbè, ci sta. Quello è il nostro gene così. Io mi sveglio ogni tanto con voglia di colonizzare dei paesi, però mi trattengo perché effettivamente... Non è più l'epoca, non si può più fare. Di avere un villa in arca, anche, ci si sveglia. Sì, sì, ho quella voglia di posti petroliferi, però non si può più fare, purtroppo. Eh, lo so, lo so. Questo mi piace molto, questo mi piace molto questa domanda, perché non so perché, mi sto immaginando molto Andrea, che è direttamente coinvolto in questa domanda, ma quando la leggerai non ti fare domanda, Andrea. Sei mai stato coinvolto nel reclutamento o l'uso di soldati bambini? Minchia. Certo. Che c'è? Certo. Quando facevamo le guerre tra cortili, ero un bambino anch'io, però effettivamente reclutavo soldati bambino. Ah, giusto, hai ragione. Sono i migliori, voglio dire. Perché sì, perché sono incoscienti, ma non hanno percezione. Andrea, il nostro, con Andrea parlo con quello sotto, il nostro avvocato ha detto di smettere di rispondere. C'è? Il nostro cuore è tra cortili. Il nostro cuore è tra cortili. Il mio commercialista invece mi ha appena scritto che mi odia, e io le risposto anch'io, ma questa è un'altra cosa. E, Leo, ci sono le ultime due domande, le ultime due domande. Questa io sinceramente penso sia un po' vecchia, perché sono tutte domande non della stessa cosa, sono domande prese da più fonti per più cose, quindi raggruppate. Questa sicuramente è un po' vecchia, perché non c'entra niente lo schiavismo, prima che partiate. È un po' più avanti di quello. C'è scritto, sei venuto in America per praticare poligamia? E quindi... Scusa, che cazzo? Ci saranno tribù che praticano poligamia. Ho capito, ma che cazzo? Scusa, ma non ho capito. Ma raga, ma... Ah, è vero, no, perché in America, giustamente in America, non essendo uno stato laico, poi dipende da stato a stato, in America c'è il matrimonio in comune, per esempio, e non esiste. No, ho capito, però scusami. Cioè, come siamo passati dal genocidio a mi trombo due persone, scusami. Secondo me sono gravi. Amore e odio si dividono da un filo sottile. Amore e odio si dividono da un filo sottile. Ma in quel paese, non è una parte sud del paese, ma non si sposano tra cugini? Vabbè, anche qua. Eh. Sì, però se rimangono solo loro due, non vanno con più cugini, quindi... Beh, è vero, sì. Io con la polig... Voi cosa ne pensate della poligamia? Vi rompereste le palle con più mogli? Ma nel senso, se io fossi poligono... Sì, sì, ci proveresti, oppure è già una vasta lanza. Io non posso essere poligono, perché se fossi poligono... Cioè, io faccio fatica con una che durò dieci secondi e mi stanco subito, figurati con due, ma che cazzo... No, poi magari la domenica ti svegli tutte e sei che ti dicono andiamo all'IKEA, sai che parla... No, ma non ce la farei in... Ognuno è diverso, ovviamente. Ognuno è diverso. No, sì, ognuno... Vabbè, mi sembra... No, ma non lo sosterrei psicologicamente. Poi magari con sei mogli cinque sono incazzate, ma tu tutte e cinque cos'hai? Niente, tutte e cinque. Non bisogna decifrare. Tutte e cinque? La conosci la barzelletta, quella... La battuta, quella... Cioè, l'astronauta donna nello spazio che chiama Houston, abbiamo un problema. E Houston, che problema hai? E lei? E lei? Dovresti arrivarci da solo? Niente, poi no. Prima dice niente, e poi dopo ventiquattro ore ti richiama Houston ah, non ci sei arrivato da solo. No, però nel senso... Corre. Io ti dico la verità, cioè io per me ognuno può fare qualche vuole nella vita, nel senso, è giustamente, ognuno è libero di fare qualche vuole. Io personalmente no, non mi ci trovo a un rapporto a tre, non mi convince per niente. Proprio zero. Ma sopra al tre. Ma anche le coppie aperte, è una roba che non ce la farei mai. No, quello io non ci riesco, perché, come ho detto alla chat, io sono abbastanza possessivo per queste cose, quindi non riuscirei a condividere la mia ragazza con altri, nel senso, cioè non ce la farei. Sì, anche io, più che possessivo, magari anche un po' insicuro, perché, cioè, cioè, ben meno per quanto riguarda, come per successo, se so magari che la persona con cui sto è uscita per andare con altri, cioè, non me la vigo bene, hai capito? No, quello no, no, quello no, quello io non ho problemi, nel senso, cioè, nel senso, per me, no, la mia ragazza va dove cazzo vuole, come cazzo vuole. No, 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 non nel senso, non nel senso che uscire, magari con la coppia aperta, so che è uscita quella sera, proprio per fare, per andare con altre persone, proprio, rapporto completo. Ma lì, lì, lì non è che sei insicuro, lì non vuoi che la tua ragazza pigli altri cazzi. Eh, però, però nel mondo di oggi, se dice una roba del genere, hai la mentalità chiusa, sai come? Sì, sì, no, ma da me lo sanno già, cioè, voglio dire, da me lo sanno già, lo sanno già il mio ragionamento, la mia mente, come funziona, quindi nel senso, io poi, uno può fare quel che vuole, però, la mia ragazza non prende altri peni al di fuori del mio, e viceversa, ovviamente, però, cioè, io, per l'amore, si chiuso, Andre Apriti. Io sono, io sono zitto, sono molto chiuso. No, in chat, ragazzi, sto zitto, perché sto semplicemente lasciando parlare, buona educazione, e mi sto anche immaginando me in ogni contesto che loro hanno detto. Ma puoi anche dire la tua, non c'è mica di male. Come la vivresti con la coppia aperta? Sai che la tua ragazza esce magari la sera per andare con altri. Cioè, lei ama te, ama te, però quella sera vuole bombare un altro. E te lo dice, perché una coppia... Non c'è mica nulla di male, anche se sei in disaccordo. Infatti, io sono in disaccordo, sinceramente, non... Non è un crimine, voglio dire, non c'è mica niente di male. Ma sì, ci può anche stare, no? Tanto poi cazzo, scusami, io possiedo. Domanda chiave, domanda chiave, ti darebbe più fastidio se ti dicesse, esco vado con un uomo, o esco vado con una mia amica? Ovviamente a fare, a fare sex. Ah, ok, c'è la specifica scelta. E allora è uguale, che cazzo cambia? Scusa, esco vado a trombare con un uomo, ciao tesoro, esco con un'amica. Io conosco molte persone che direbbero, no, con una donna mi darebbe meno fastidio. Vabbè, ma perché il concetto della... ma perché il concetto della caramella, ti piace una caramella, te ne piacciono per forza due. Quello concettualmente, di conseguenza, ti piace la tua donna, te ne piacciono due, però è sempre, tra virgolette, è sempre, no, tradimento, vabbè, se ci si eseguiti da qua, non ho. pensando se la mente fredda, anche a me, forse darebbe un fastidio. ma però, Andre, scusa, ragiona, ne possiamo uscire con queste scamotage qui, senti bene, perché lo possiamo... Non isco. No, le possiamo usare come scamotage, senti bene. Allora, tu sei, io non lo so, ipotito, tu sei etero, giusto? Sì. Ok, perché? Non era ovvio. domanda che gli fanno una volta a settimana, tranquillo. No, sì, vabbè, quindi a te il pene fa schifo, giusto? Sì, solo un pene può esserci nella mia vita, che è il mio. a te il pene, il pene, dal punto di vista settore, ti fa schifo, Quindi, perché vorresti che la tua ragazza prendesse una cosa che ti fa schifo? È vero. Esatto. È geniale, è un ragionamento che non fa una grinza, però. Effettivamente, effettivamente. C'è il martelletto della corte? Ecco, questa è la legge, e questa è la legge. Cosa sta succedendo? È il riunione di cervelli, ragazzi, questo è brainstorming, stiamo cercando di, stiamo decostruendo la società e stiamo arrivando al succo. Il succo, il giuisce, il giuisce. Comunque, il lino di Massima, no, mi darebbe fastidio uguale, se me lo chiedi, boiata parte, mi darebbe fastidio lo stesso, cioè non è che cambia assolutamente niente, non è che a quel punto di vista lino. Sì, in realtà sì, perché comunque è proprio una roba anche di, proprio di esclusività, almeno per quanto mi riguarda. Ma ci si accorda prima, alla fine nessuno vuole obbligare un'altra persona a fare quello che non vuole, si si accorda prima. Infatti io direi che più che altro la questione è tutta lì, la questione è tutta lì, cioè nel senso, se ti accordi e va bene per entrambi, sti cazzi, cioè non è, non voglio dire che... Guardi, la ragazza gli dici tu sei monomero o poligono, e la seconda è quello che ti risponde e poi dopo decidi, non binary. Quella è un'altra roba, ma va bene, non penso... No, comunque sì, alla fine ti accordi così, no no, io sono tradizionale da quel punto di vista lì, sono molto tradizionalista. E poi... Siamo boomer, siamo boomer. Ma non me ne frega un cazzo, guarda, poi c'è l'ultima, l'ultima è quella che mi ha fatto più ridere di tutti, l'ultima domanda è quella che mi ha fatto veramente... Dopo il genocidio e tutto il resto, immagino cosa sia. mi ha fatto più ridere. Sei un membro del partito comunista? Beh, ma ancora, ma un po' vecchia sta domanda, è anni 50. Scusate. Un po' vecchiotta, è crollata la cortina di ferro, o sbaglio? Ma che cazzo di domanda? È partita una leggera digestione, scusatemi ragazzi, scusatemi. Comunque sì. Comunque sì. È bellissimo. Ti immagino che in Italia funzionasse così? Cioè tipo, vai farlo a tecno, se lo sei voto, te lascerei. Chiedilo a Bologna, fai parte del partito comunista. Vabbè, a Bologna, a Bologna, sono tutti rossi, però mi farebbe troppo ridere. Vabbè, fare una testa, scusi, ma lei vota Salvini? Ma mai sca fuori, vada via subito, per favore. Se ne va. Beh, allora, se parliamo degli Stati Uniti, io vi ricordo che durante le esecuzioni capitali, durante le inizioni letali, disinfettano il braccio alla persona che stanno per ammazzare. Eh certo, scusate, mette che uno si prende un'infezione da morto, poi dopo è un problema, voglio dire. Che cazzo. Ma tu cosa ne pensi di TikTok che viene rimosso? Adesso non ho ben seguito la cosa, quindi secondo me non passerà mai. Sto facendo domande un po' strane. A quanto pare vogliono rimuovere TikTok dall'America. Vogliono dare un'età. Sì esatto, vogliono sopra una soglia d'età. A parte il fiatto che ho letto, non c'è tutto un cazzo, Dino, però si collega direttamente a quello che stai dicendo tu. Ho letto che in Florida vogliono far passare una legge che sembra che poi potrebbe diventare una legge estesa agli Stati Uniti ma anche qualcuno in Europa ci sta pensando. Una legge dove vogliono proibire a tutti i minori di 14 anni di usare i social e ai ragazzi tra i 14 e i 16 di usarlo ma con l'autorizzazione dei genitori. Esatto, è praticamente l'evoluzione della legge di Bandiamo TikTok. L'hanno un po' edulcorata, hanno detto no, visto che sono dannosi per i giovani a quanto pare rendiamoli inaccessibili per i giovani. No, come vogliono togliere tutte le responsabilità possibili e immaginabili ai genitori. Però secondo me è un po' cioè io non mi ricordo quando ho iniziato a utilizzare i social sinceramente. come un po' tipo la Cina. Sì, ma no, sono d'accordo con te. La Cina? Perché hai detto ad enti strassi così? la Cina. Tanto ti sentono comunque voglio dire ormai se sono loro distratti. ritengono che nei social ci sia un pericolo evidente per le persone di una certa età che non sono in grado di gestire determinati pericoli nei social sotto una certa solita età. Però anche il parchetto dell'oratorio ai nostri tempi era un pericolo perché era pieno di bulletti e di situazioni brutte però non ce lo vietavano. È vero, però il parchetto... È la stessa cosa secondo me. No, beh, capisco il senso però il parchetto dell'oratorio c'era solo Don Gino che voleva trombarti nel senso nel resto c'è su internet è tutto il mondo che vuole trombarti se ha brutta intenzione quindi siccome i social uniscono tutte le persone del pianeta hanno paura che aumenti esponenzialmente il pericolo per... Però secondo me è vietato cioè il proibizionismo non funziona mai in qualsiasi caso. Vabbè, comunque un età limite serve per forza. Vabbè, io intanto sto preparando comunque dei profili falsi da vendere così che quando passerà passerà tutto via. E ragazzi vado a trovare lavoro laddove dove insomma c'è voglio dire si può stare. Sono d'accordo con te quindi tolgono TikTok guarda sinceramente parlando io per TikTok ho un asti un risentimento molto personale l'odio con tutto il mio cuore quindi sì però io di più immagino ci credo ci credo Andre ci credo perché anche voi avete tribolato vi avevano bannato penso tutti tutti quelli che ci lavorano sopra no dipende dipende da che content creator sei purtroppo se sei una persona normale tu su TikTok non ci puoi stare definisci persona normale persona che esprime un'opinione qualsiasi non ci puoi stare non ci puoi stare oppure allora noi il nostro canale non come te non abbiamo mai fatto divulgazione non parliamo del sociale però noi veramente cioè per quanto ci riguarda la cosa che fa ridere è che venire bannati video buttati giù canale bloccato per mesi eccetera per dei video gameplay è qualcosa secondo me di ridicolo cioè veramente ridicolo sì ma poi perché TikTok ha anche tra le altre cose non è solo quel problema che fa anche come si dice dei favoritismi palesi perché a me mi hanno rimosso un video e io non sto scherzando perché io questa storia ormai l'ho accumulata e potete scriverci un libro ma hanno rimosso un video per molestie sessuali in cui dicevo che la parola Meloni del premier Meloni ricordava non mi ricordo il contesto ma i meloni lei diceva lei ha fatto un video dove diceva il 7 settembre votate aveva tipo sollevato due meloni per dire votate meloni e io ho detto dobbiamo votare le tette cioè nel senso perché per la gang è una battuta normalissima no Meloni me l'ha rimosso per molestia sessuale attenzione però io lo stesso giorno scorrendo i video in giù ho visto tribù di nativi con le tette di fuori che ballavano in cerchio quello invece va bene ma anche la gente che scuola le pecore quello va bene quello va bene vedere gente con tette di fuori che balla va bene se io dico la parola a tetti ma quella è cultura ma noi per bullismo ti ricordi a noi per bullismo perché io avevo detto nella live avevo detto lo ridico così ci ribanano su tiktok compra 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 mentre stavano comprando in un video il gioco no ma non siamo non siamo in live su tiktok ah bene allora no non avrei fatta c'è uno cos'è per bulli bulli cyberbullismo e cos'è la propaganda propaganda speed rg allora molte volte tabacco vendita di tabacco non so per quale cazzo perché svappavamo il live non è tabacco e poi si per cerca ha provato a vendere adesso mi ricordo esattamente le parole ha provato a vendere componenti elettroniche cazzi e mazzi senza quando lui ha detto compra compra eccetera eccetera per molestie sessuali pure noi contenuto sessuale molestie sessuali per bullismo perché ho fatto in un video dove giocavo con lui l'ho preso insulti e quindi lo stavo bullizzando palesemente sì 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 e niente ma nessuna di queste di queste cose diciamo si avvicina minimamente alle due denunce che sto rischiando questa settimana ma per cosa scusami lo spiego ho aggredito una vecchietta per traffico di orvi cosa significa che hai aggredito una vecchietta ma no ma no è una storia che volevo raccontare anche in live poi alla fine non l'ho più fatto no perché io pensavo fosse una gag ora lei aggredito 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 esatto ma non neanche verbalmente in realtà allora io ho ragione aspetta mi piace io ho ragione perché sì è questa la cosa è così che inizia la storia io ho ragione ascolto da prescindere signor giudice io ho ragione allora il 90% dei miei problemi in questo momento della mia vita sono legati ai cani avendo questi due cani giganti in una casa microscopica ovviamente sembra uno di quei film degli anni 80 con il bassotto e il danese ste cagate qua del cazzo sono uscito con i cani i miei cani sono dei cani grossi dei cani che d'altro cuccioli perché appunto uno ha due anni da poco l'altro un anno è qualcosa non mi ricordo manco più ma sono ormai di 45 35 chili e questo è il preambolo anzi no anzi altra piccola parte parte e quando vedono altri cani come ogni cane cucciolo comunque generalmente come ogni cane o vuole giocare o vuole uccirlo è nella loro cazzo di natura infatti ogni tanto questa regola non scritta di chi possiede i cani che quando ci si incontra per strada si sta incontrando per strada si chiede maschio femmina per sapere se in base al sesso si possono conoscere ci sta io con quelli di mia madre quando li porto fuori di solito mi sposto direttamente per evitare un tipo di problema esatto così si dovrebbe fare io ero per strada il sole era alto e avevo ragione stavo camminando con i cani e a un certo punto vedo a 50 metri di distanza da me questa allegra vecchietta con il suo cane uno di quelli brutti uno di quelli brutti i cani delle vecchiette che tra l'altro assomigliava un sacco alla vecchietta però vabbè lasciamo per ma i cani assomigliano tantissimo alla stessa pettinatura comunque si avvicina con questo cane e i cani iniziano ovviamente ad abbaiare e a scalmanare io con 45 kg di bestia e 35 kg al guinzaglio al guinzaglio in mano alla vale che c'è la mia compagna con l'altro cane che lo teneva così eravamo per far passare la signora ci siamo messi di lato sulla strada in mezzo al fango perché stava pure piovendo prima c'era il sole ma adesso piove vabbè comunque e il mezzo sugli acci sei diventato mi sono messo mi sono messo i dettagli fanno la storia mi sono messo lì nella fanghiglia per far passare la signora col cane anche se questa signora ci aveva visto ed è venuta proprio a romperle balle perché poteva passare la strada era larga c'erano mille marciapiedi c'erano mille modi per andare dove doveva andare doveva rompere i coglioni parliamoci chiaro e quindi cosa fa si avvicina mi sorride col cane i cani erano a questa distanza l'uno dall'altro immaginati la mascella di un pastore tedesco con i denti che abbaia un cane piccolo dall'altra parte la bava e gli occhi che escono fuori questa signora si ferma lì tira fuori il telefono mi guarda e si mette a fare una telefonata io non ci ho visto più allora io con calma però urlando perché i cani stavano bagliando gli ho detto signora se però si sposta ti sei alterato giustamente ma con calma ho detto signora se però si sposta gentilmente perché sto tenendo i miei cani per impedire che il suo cane venga ucciso questo è sostanzialmente quello che ho cercato di dire poi non so come mi è uscita probabilmente urlando incazzato poi non so che cazzo avrò detto ero veramente incazzato che cazzo è il serbo croato sì non lo so ho sputato spavavo non ho idea cosa ha visto la signora anche perché la signora si è frisata così ma lei non mi deve trattare in questo modo e io lì sono scoperto i fili del cervello sono saltati ho iniziato a dire ti devi levare dai coglioni porca troia ti devi levare dai coglioni ho iniziato a partire il delirio questa qui ma la strada non è tua ma che cazzo vuol dire la strada non è mia fatto sta che mi sono avvicinato col mio cane incazzato nero e io il cane tutti e due eravamo incazzati neri sinceramente la signora era lì che faceva la pinta tonta ma io stavo rispondendo al telefono ma io di qua a un certo punto mi ha detto ma io volevo chiederle una cosa sì al telefono mentre era col cane non so che cazzo si stesse inventando sta qua fatto sta che sono partiti insulti quindi c'è stato uno scontro verbale e la signora poi se n'è andata via io me ne sono andato via dall'altra parte con l'avena acqua gonfia il cane è spompato la denuncia cosa è successo che io non non lo sapevo non lo sapevo ma questa persona vive nel mio stesso condominio questo è l'inizio di una storia questa qui è una ciliegina però ancora la denuncia non siamo arrivati al punto perché perché tornando a casa io la rivedo davanti al condominio ok col cane che stava parlando col custode il ragazzo che fa il custode sì l'ha fatto palesemente apposta e io ancora mi risa proprio sento i battiti del cuore che aumentano e la voglia di insomma e io sopprimere la vecchia sì no 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 assolutamente no 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 magari un abbraccio constriptor dai un abbraccio constriptor giusto tanto sta denunciando te non me io posso dirlo quindi non è che voglio dire sì vabbè ok comunque fatto sta che questa qua a un certo punto si è messa lì davanti alla porta io dovevo entrare lei cosa ha fatto si è messa davanti alla porta col cane così da far ricominciare tutto da capo il casino e quindi da lì si è ripartiti a litigare con la domanda con la frase che mi ha fatto incazzare ancora di più ho dei testimoni io ti denuncio perché l'ho aggredita verbalmente e io ho detto che cazzo di testimoni hai e lei mi dice mi ha detto eh il custode ha detto il nome che ha visto tutto ho detto ma se noi eravamo a 150 metri dall'altra parte della strada come cazzo ha fatto sicuramente mi ha sentito urlare ma come cazzo ha fatto a vedere quello che è accaduto che eravamo dietro l'angolo dall'altra parte è dissenti nel custode si si sapeva tutto infatti il custode rideva perché lo conosco da anni è anche mio amico quindi era lì che così fa lascia perdere vai sbattitani i coglioni poverino non c'entrava niente questa famosa per litigare con tutto il condominio in realtà per carità fatto sta che a un certo punto parte con io ti denuncio e io ho urlato ma denunciami mongoloide e quindi da lì poi è partito quello che è partito e basta e quindi sono ancora in attesa sto aspettando guarda non credo non credo ci siano gli estremi no 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 mi è arrivata una letterina mi è arrivata una letterina vabbè la diffida la diffida può farla chiunque sì sì perché c'è una back story mio padre è l'amministratore condominiale quindi è l'amministratore del condominio dove vivo con questa signora quindi è tutto un delirio e io questa cosa non la sapevo perché? perché io me ne sbatto i coglioni stavo solo portando fuori il cane avevo ragione tu non ti ballano per quella parola lì ma sì ma non mi ballano perché hai detto ma che ti ballano no no ma poi ragazzi è una citazione no no probabilmente ci dissociamo dalla violenza verbale quindi poche parole alla fine non è nulla di fatto perché anche io comunque ho rischiato una volta in particolare che la situazione degenerasse però in quel caso la mia è stato un accumulo di rabbia repressa nel corso di svariate settimane cioè per fartela in sintesi praticamente io ogni tanto porto fuori i cani di mia madre è sempre colpa dei cani e arrivo in me non sono da 40 kg sono è un mezzo pitbull uno ma comunque 25 kg 30 è un'interessa generale e praticamente io per arrivare all'area cani dove porto i cani devo accostare completamente il mio giardino dove vivo vicino e all'interno del giardino ovviamente ci sono le vecchiette di merda con i cagnolini di merda no solo che accostare nel giardino richiede un tragitto abbastanza lungo stiamo parlando di 3-400 metri abbondanti le pettegole del quartiere e ogni volta che andavo con i miei cani si era sto cazzo di cagnolino di merda di questo signore rincoglionita che per tutto il tragitto che io facevo tutto dall'inizio alla fine sto cane si metteva di fianco e faceva e loro non dicevano un cazzo lo lasciavano fare per tutti i 400 metri di merda allora i miei cani avevano sviluppato dei tic che erano lì che facevano così dopo tipo 3 settimane che io facevo così un giorno che l'area cani era piena entro nel parco perché dico la fanculo l'area cani è piena entro nel parco io entro nel parco mi vedo sto cagnolino di merda che era una pantegana che corre verso i miei cani facendo allora c'era 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 il mio cane che mi guardava mi guardava mi guardava mi prego liberami squinsagliami allora io so che i miei cani sono buonissimi perché i miei cani hanno paura anche dell'ombra io ho mollato il cane c'è il mio cane che si è messo fermo in bobi la guardava il cane che arrivava c'è sto cane di merda che gli è arrivato fin sotto a fargli c'è il mio cane che gli ha fatto gnak sul collo e questo qui è classico e quindi da lì poi io ti denuncio compagnia bella immagino no 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 ah no ok 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 come fai scusami aveva liberato il cane non può beh effettivamente 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 è legale nei luoghi nei luoghi non recentati cosa mi diceva hai liberato il cane non puoi quindi di conseguenza aveva poco da dire ma a parte il fatto che voglio dire stare incoglionita è solo un soldo del cane come cazzo del cagorbo che cazzo fufino no fufi basta basta fufi no vieni qui il polso è tutta questione di polso madonna mia che padre c'è dio mio ci sono altre che fanno ancora più ridere che si comprano dei cavalli e portano in giro cavalli che le ribaltano in giro mentre camminava si sente sto cane che le arriva dietro all'abbaiare allora si gira per dire dov'è la vecchia c'era la vecchia stesa per terra perché il cane l'aveva ribaltata per terra il cane scatone ma steso la vecchia ce n'è una con un malinos ce n'è una con un malinos quello lì della squadra delle squadre speciali per assaltare il cane soldato i babbo natali i babbo natali si babbi natali ci siamo capiti a me non piace il malinos non ti piacciono i babbo natali ah no ok e no praticamente c'è questa qua che è questo malinos che è enorme non ho mai visto un cane così grande eppure è strano perché non sono così grandi questo è un fuori taglia è veramente gigante e questa signora non è neanche così anziana però non lo sa portare palesemente cioè non riesce a tenerlo ma ti dà una certa forza per quei cani no certo per carità più che altro che sono cani che finché non raggiungono cioè li devi addestrare devi avere il tempo per addestrarli sì ma devi avere del polso con i cani però ci sono alcuni cani che sono proprio delle teste sì alcuni anche se il mio è proprio una testa di cazzo cioè lo dico perché l'abbiamo quattro addestratori non dipende dalla razza è proprio anche il carattere specifico la chiazza sì però ragazzi nonostante sia un pastore tedesco beh che sono ancora tra virgolette cuccioli però è maschio c'ha due coglioni così che non vede più non vede l'ora di insomma mi slingua sempre sì no Peppe figurati ormai tu gliel'italiamo le palline? gli abbiamo fatto la ormai io sono suo gli abbiamo fatto la castrazione chimica ah vabbè non volevo non volevo staccare dei pezzi al mio cane mi dispiaceva no no non è per quelle poi diventano ciccioni i ciccioni maschi esatto sì sostanzialmente sì gli abbiamo fatto la chimica abbiamo un'empatia e non è bello che non è cambiato niente continua ad assalire la più piccola di un anno e a trombarsela in mezzo alla stanza noi cerchiamo di anche le scene le scene sono queste alle tre di notte io sento la mia bella che urla no ti prego è piccola ancora un anno e nel mentre e io chissà che cazzo pensano i vicini è l'età è la maggiore età esatto sì 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 a lui 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 è proprio un fuoriclasse e io vado lì con la metà faccia con la metà faccia con la metà faccia rido perché mi fa ridere l'altra sono incazzato per fermarlo quanti ricordi mi hai fatto venire in mente Dino è piccola ancora un anno beh i tempi comunque io ho una attenzione stai parlando della sua prima macchina che ha comprato ragazzi ovvio io invece il cane più grosso che abbiamo visto nella mia vita io mi sono personalmente innamorato però mi rendo conto che richiederebbe anche un'arena morta al giorno io un pastore mare in mano no io un San Bernardo io non ho mai visto un cane così era un'automobile ma insieme al Terranova è il cane più grande al mondo sì ma poi mi faceva ridere perché la signora sembrava edna degli incredibili cioè era alto un metro e ventiquattro praticamente con questi capelli neri ma il San Bernardo era proprio sai proprio i cani quel San Bernardo aveva tipo la flemm cioè proprio tipo non c'ho cazzo ma sono cani sono cani proprio pigri cioè proprio che diceva tanto dice sono talmente grosso che pericoli naturali non ci sono posso sgranocchiare le automobili c'era sto cane che camminava proprio così cioè ogni zampata tremava il pavimento la signora gli arrivava qua la signora una testa grande così io mi sono avvicinato mi sono avvicinato e ho detto signora posso accarezzare io chiedo posso accarezzarlo e fa sì sì fai pure c'è sto cane che ha accarezzato la signora ah no ok mi guarda anche mi guardava questo cane l'ho accarezzato mi guardava come per dire eh cioè era bellissimo cioè gli potevi cavalcarlo in battaglia quel cane era stupendo finalmente effettivamente se la signora era piccolina una sella io l'avrei comprata potrebbe potrebbe essere con quello che io sto pensando a diversi modi per utilizzare i cani cioè nel senso non la slitta la slitta delle ruote giganti tipo criceto no io vorrei delle ruote giganti tipo criceto con una dinamo così che ci corrono dentro e mi fanno un po' di corrente in casa che secondo me potrebbe essere interessante che è una cosa che ti volevo chiedere da un po' in realtà non ci sono a menti live ma tu hai avuto delle esperienze strane con i nostri FUNS tipo alla Games Week o in fiere del genere uno ci ha passato il colera praticamente ce lo ricordiamo la frase è questa ancora insegna addosso ciao ragazzi allora era giallo in faccia sudato sudato da fraschi non mi ricordo il nome perdonami comunque lo chiameremo Paolo 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 si avvicina a noi sudato giallo proprio giallo con le labbra viola con un fazzoletto in mano e ci fa scusate ho un po' di febbre sono venuto per voi non sto tanto bene sono venuto per voi ho preso trame non sto tanto bene vi va bene un abbraccio e io ho detto abbraccio foto abbraccio foto abbraccio foto noi abbiamo fatto tutto quello dovevamo fare a me è venuto il resto è storia perché da lì lui non si ricorda più che è successo perché è letteralmente svenuto in bagno per il covid gli ho spaccato la testa mi sono rotto l'unghia scusami però voglio dire poteva dirti scusa un po' di vaiolo posso sputarti infatti era impestato da fraschivo io pensavo avessi un po' di raffreddore ho detto sì vabbè ma chi se ne frega mastico le gomme sotto al tavolo per per invece no c'era la febbre gialla invece questo aveva la febbre gialla letteralmente a lui gli è venuto il covid a me è venuta una delle peggiori influenze della vita me lo ricordo tra l'altro perché nei DM in cui venne anche a me io ho beccato l'influenza l'influenza A all'epoca non il covid se non sbaglio era lo stesso anno perché io ti scrisci come stai tu mi dici sto di merda mi hai detto Andrea è morto in bagno ma anche nei DM anche nei DM i nostri fan e anche in generale anche tutti gli altri content creator chi aveva la polmonite chi era in ospedale perché era venuto tipo il colera cioè non si è capito che cazzo è circolato durante durante la circolava un po' di tutti in effetti io mi sono beccato una febbre della madonna che sono stato tipo con 39 io ho avuto ricordi molto vaghi di quell'aumento di febbre perché io mi ricordo che io c'ho le allucinazioni io dormivo una cosa come 20 ore al giorno perché ero sfatto e praticamente mi ricordo che ogni tanto aprivi gli occhi e dalla tv vedevo un video di Giorgione perché se li ho segnati me li ricordo molto molto bene molto molto bene io mi svegliavo e sentivo del burro chiudevo gli occhi dormivo mi risvegliavo e facevo mettiamo la costina in panere mi chiudevo gli occhi io svegliavo olio burro io avevo l'allucinazione io credevo col 39 di febbre che mi sono durata più di una settimana credevo di parlare con delle persone e poi dopo magari quando mi sfebravo durante il pomeriggio che mi scendeva la febbre dicevo ah sì poi dopo quando stamattina abbiamo parlato di quella cosa no no non abbiamo mai avuto quel disco infatti Andrea immaginavo di parlare con della gente scusami scusami Andrea infatti se ti interrompo vai alla finestra apri un attimo la finestra fai vedere una cosa vai fai vedere c'è un cadavere apri anche anche le è bravo l'ha aperta la finestra ecco se notate poi il suo padre ha installato delle sbarre perché lui voleva buttarsi volevo scappare minta che freddo sto volando Jack sì sì e quindi praticamente l'hanno chiuso in casa sì 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 l'hanno chiuso in casa quello del piano di sopra era pronto con un secchio d'acqua fredda casomai vedi se hai la testa a spuntare fuori è freddissimo ragazzi ma ci sono tre gradi e beh lascia fare lascia fare ma aprile mamma mia adesso sta cosa guarda stamattina questo è come è come ormai diciamo mi accogliono mi accolgono i social mentre stavo facendo colazione accendo il telefono guardo la prima la prima cosa che vedo un tizio che si lamenta che a marzo che è bello perché è litigarello decide di marzo pazzo marzo pazzo esatto no marzo al cazzo ci sono adesso 9 gradi fa le sci e chimiche la fine dico ho detto parca puttana ma basta è dall'alba dei tempi che a marzo qua diluvio ogni cazzo di giorno è normale c'è cazzo questo qua mamma mia comunque anch'io con la febbre ho avuto gli incubi febbrili quella volta era una vita che non avevo gli incubi febbrili che sono quegli incubi che litighi con te stesso no che poi vedi le cose tutte tipo a velocità diverse tipo che vedi una cosa si allontana velocissimo poi tipo si avvicina lentamente e vedi tutto che si ingigantisce tutto sembra essere fatto di lsd no io vedo io vedo tutt'altro io quando ho la febbre di solito prima di dormire comunque quando sono nel momento catartico della febbre litigo con me cioè ci sono due voci nel mio cervello che sono sempre io che litigano tra di loro ah quindi praticamente ti praticamente hai un ego talmente smisurato che vedi tutte le persone con la tua faccia che mi sdoppio no no in realtà no in realtà ha un dibattito con me stesso ah ok ci sono due versioni di me che sono in disaccordo su un qualcosa tipo non mi ricordo che discorso poteva essere tipo l'acqua della piscina salata vi faccio un esempio c'era una parte di me che discuteva con un'altra con un'altra voce ma ero sempre io quella voce andiamo a farci un bicchiere di latte no ma io lo voglio no si 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 smigola e gollum gollum ragazzi viviamo nell'epoca d'oro del comportismo comunque a posto di sci e chimiche ma io sto vedendo delle cose in questi giorni che sono di una meraviglia inaudita ragazzi la roba di son insetti a cadorna e a le situazioni che no e molta gente l'ha messo su twitter inneggiando tra cui politici ma non entro nel merito inneggiando alla fine del mondo ma è una pubblicità imbecilli cosa vuol dire una pubblicità di una roba valla a dire su twitter a netflix andiamo alla fine della fine del mondo ragazzi è stata come dice come dire programmata almeno 500.000 volte cioè si è andata a vedere le volte ci siamo vicini la fine del mondo cioè l'avranno predetta un migliaio di volte nel corso degli ultimi 2000 anni eppure continua a non morire nessuno beh dicono che la guerra non siamo mai stati così vicini alla guerra atomica come in questo periodo storico sui social è vero che stiamo rischiando però secondo me io con la crisi dei missili di cuba sarebbe ma infatti ma con cuba con cuba cioè con cuba bastava bastavano due centimetri dal tasto rosso cioè e poi tra l'altro abbiamo veramente rischiato perché ci fu quell'episodio incredibile incredibile di bui bug no non il bug abbiamo avuto la più grande botta di culo nella storia dell'uomo che praticamente c'era un sommergibile nucleare sovietico vicino alle coste degli Stati Uniti e il radar del sommergibile aveva rilevato dei lanci di missili nucleari dall'America 2-3 capito allora i sovietici erano nel panico perché dicevano questi ci stanno attaccando dobbiamo premere il tasto rosso per far sì che da ogni sovietica ripartano i missili indietro è la scena è la scena del gigante di ferro prego no guarda che roba la fortuna ha voluto che servissero tre ufficiali per confermare l'attacco sì codici di lancio sì e il terzo ufficiale che era lì era stato sostituito cioè era era in sostituzione di uno che era molto più incazzoso molto più severo e questo qua che l'aveva sostituito era molto più tranquillo e lui si è rifiutato di autorizzare il codice di lancio perché diceva che era un'assurdità e fortunatamente infatti non era vero era un errore del radar se ci fosse stato quell'altro ufficiale là era probabile che sarebbe scoppiata una guerra nucleare quindi una porta di cosa incredibile che si è accettato rosso sì sì ci hanno fatto ci hanno fatto ci hanno fatto ci hanno fatto un film su sta roba però un culo incredibile però se non sbaglio ce n'era anche un'altra che era un po' più recente tipo negli anni quando stava per cadere la cortina di ferro che questa era la versione americana che dal NORAD hanno visto hanno c'è stato un bug ai radar e hanno rilevato miliardi tipo centinaia migliaia missi migliaia lanci poi dopo invece hanno scoperto che era uno stormo di uccelli beh uguale stas'identica cosa missili nucleari c'è il NORAD il NORAD suona cazzo guarda quanti puntini sulla mappa sono missili nucleari stavano per fare il dev con uno la trafila avvisare il presidente arriva l'ufficiale no ma controllate beh guardate a guardare fuori dalla finestra hanno guardato sullo radar hanno guardato fuori dalla finestra praticamente bastava aprire la finestra per guardare poi non so se sono vere sono un po' delle leggende metropolitane comunque a proposito di roba di fan che alla fine per non perdersi a me è capitato un ragazzo quest'anno al Bologna Nere che mi ha fatto un sacco ridere e allo stesso tempo ho lasciato un sacco perplesso cioè questa riva mi fa oh Andrea ciao grande bla bla è giusto appunto di punto in bianco ma completamente a caso senza dei preamboli un discorso dietro mi guarda e mi fa ti posso prendere in braccio e sollevare bene gli ho detto guarda ma era una domanda o un'affermazione? no era una domanda gli ho detto guarda all'epoca adesso non so quanto sono all'epoca gli ho detto guarda io credo di essere intorno ai 120 kg io non sono sicuro sei convinto mi fa sì 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 dico va bene questo mi prende effettivamente mi tira su e io gli ho detto ma stai bene cioè le ernie sono sì sì ho solo un prolazionale ma sto bene ha cagato l'intestino mi ha detto stai bene le ernie sono era tutto era tutto contento che me aveva sollevato dico sì ma perché era un gol e un gol di vita invece a me una volta a me mi è successo solo una volta però non è vero che sei dimagrito un botto sì è vero in realtà un po' sono dimagrito non tantissimo ti vedo molto più e poi allora noi ti abbiamo visto l'ultima volta l'ultima volta è la megia della regia sì 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 comunque stavo dicendo a me non è capitata la Games Week ma ero sull'autobus qua a Milano tipo una roba di un annetto fa il controllore ti ha chiesto se poteva prenderti in braccio no ero sull'autobus seduto con le cuffie e vedo salire vedo salire un ragazzo che appena sale poi mi guarda in faccia ed è lì che mi guarda vedo che voleva venire probabilmente mi aveva riconosciuto voleva venire a parlarmi vedevo che era un po' combattuto ovviamente facevo finta di niente perché mi vergognava anch'io passano tipo cinque fermate io ero alla sedile della porta lui passa davanti dove c'è il vetro mi vuole continuo a fissare finché non si apre la porta fa io so chi sei scende scende e se ne va io so chi sei io so chi sei forse cercavo mi vuole fa io so chi sei e se ne va io so cosa hai fatto ieri notte io so c'è un inquietud un inquietud dovevi rispondere ma anch'io so chi sono così il circolo era perfetto comunque questo è l'unica cosa che mi è successo non mi ricorda non mi ricorda se ho raccontato in live forse ieri sera l'ho raccontata la figura di merda che ho fatto in palestra pensavo che due ragazzi mi avessero riconosciuto lunedì l'hai raccontata ah lunedì ero in palestra è successo anche a me dimmi e praticamente erano lì che facevano gomitino ridacchiavano mi continuavano a puntare col dito facevano così e ridevano e pensavo volessero chiedermi qualcosa perché continuavano a fissarmi guardavano il telefono mi fissavano guardavano il telefono ti viene istintivo pensare esatto siccome perché non è la prima volta che è successo siccome ho detto ma sì mi avrà riconosciuto li vedevo un po' timidi e stavano cazzizzando li vedevo un po' timidi allora ho detto senti vado io da loro vado io da loro sono andato io da loro li ho guardati gli ho detto proprio contentissimo bestiasce come state e questi qua non avevano la minima idea di chi io fossi non avevano la minima idea di chi io fossi quindi io ero lì così a posa da supereroe ho detto arrivederci e me ne sono andato perché sembravo un pazzo cioè una figura di merda a me è successo anche di peggio perché tu almeno sei stato allegro io tu gli hai detto che cazzo vuoi no 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 a me è fatto ancora più ridere ancora io ero a Milano Marittima con la mia ragazza e ogni tanto sai lì passano i ragazzini perché è pieno di ragazzini ogni tanto qualcuno ciao Andrea tu sei Andrea bla 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 allora mentre questo accadeva che ogni tanto passavano dei ragazzini io nell'angolo vedevo quattro ragazzi che mi guardavano e guardavano il cellulare allora io nella mia testa come te ho pensato mi fissano guardare il cellulare ho detto magari mi hanno riconosciuto hai capito però sono timidi allora sembra arroganza ma in realtà non lo è aspetta perché io ho esordito con una frase proprio da demente cioè io ho da tutto spanito mi alzo tutto convinto tipo così vado da loro e gli faccio sì sono io e loro chi sei ma chi sei bellissimo meraviglioso dico sì sono io allora nuova regola d'ora in poi quando succede filmiamoci così vediamo infatti non va infatti non andrei a prescindere se dovesse succedermi non vado io da loro ho smesso perché evito figure di merda cioè poi vabbè c'è da dire che anche anche i miei ragazzi ogni tanto qualcuno me la fa una volta arrivata una ragazza mi fa sei Andrea del 1888 guarda li porto bene 135 anni beh guarda che la prima volta che parlai di te dici Andrea del 1898 infatti mi sono fermato e ho detto aspetta qualcosa non mi torna l'età l'età c'è qualcosa di diverso qualcosa di strano è immortale un vampiro vabbè ma quelli sono episodi comunque io da loro ho smesso io da loro ho smesso ti ricordi ti ricordi a me la Games Week ecco questo qua potrei dire la Games Week che arriva da me uno no arriva da te uno fa Andrea poi dopo tu gli dici tu gli dici no sono Dino si gira e inizia a parlare quel ragazzo poverino era ubriaco era ubriaco perché si vedeva molte persone molte persone ancora non hanno capito chi è Dino e chi è Andrea nella coppia e quindi a volte si apprestano era emozionato era emozionato e probabilmente era bevuto giustamente no perché davano la vodka agli stand io non lo sapevo ma davano la vodka c'è di tutto vabbè fatto sta che si avvicina da lui e gli fa non gli dice Andrea gli dice Dino lui imbarazzato per per non insomma per non dirgli no dimmi dimmi no aspetta voglio fare una foto con Andrea e viene poi da me e c'è tutto un macello io non stavo capendo un cazzo era un delirio era un delirio però no questa che stai dicendo tu Andrea forse era un'altra no poi c'era quell'altro ragazzo che fa quell'altro ragazzo che era quello un po' su di giri che appunto ha pure il cappellino dell'absolute vodka perfetto vodka buono siamo un po' intallati vodka che fa grazie che te non ti calcola te non ti calcola minimamente che arrivi di fianco viene solo doma e fa grande cop tv sei il miglior moderatore non te lo ricordi sei il miglior moderatore il miglior moderatore a lui a lui non lo calcola di striscio lui era lì di fianco con le buste che lo guardava proprio in faccia non l'avrà manco visto perché non ha scosto non interagisce non interagiva non avevo attivato il dialogo quando uscivo dallo stand mi mettevo in incognito col cappellino andavo in giro ma guarda che io ho scoperto una cosa che spesso e volentieri quando ci sono più persone che uno vuol salutare non vede l'altra cioè a me è capitata la stessa cosa ad esempio ero allo spettacolo dei gentlemen lì il Merlutz Daniel Lazzarino che mi avevano chiamato ed ero fuori dal teatro a fare due chiacchiere con Power non so se prende Power lo streamer facevo due chiacchiere con lui a un certo punto arriva un ragazzo che mi guarda e mi fa oh Andrea posso farti una foto e io certo allora c'è Power che lui è gentile è tutto carino fa se vuoi te la faccio io e ragazzo grazie grazie cioè il ragazzo l'ha fissato per tipo ma 40 secondi l'ha guardato a Power in faccia dopo 40 secondi che lo fissava ha fatto quanto ci hai messo a riconoscerlo scusami perché era concentrato perché era concentrato con te poi una volta che ha completato la quest di fare la foto con te ha riconosciuto Power quanto sei messo ti voglio dire tre quarti o anche al Bologna Nerd di Bologna anche al Bologna Nerd di Bologna sì anche al Bologna Nerd mi è capitato una cosa simile che praticamente io stavo camminando sono usciti i DF avete presente i youtuber i DF i due fratelli che fanno i video non so se li conoscete comunque sono abbastanza conosciuti forse sì non è indispensabile però comunque sono usciti loro io li vedo li faccio ue cari come state tutto bene bla 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 ci salutiamo un attimo cioè fai conto io ero qui loro erano qui arriva una ragazza in mezzo ci vede a tutte e due e comincia a fare error error 4 non sapeva da chi andare guardava me guardava loro troppe emozioni gli ho detto vai da loro che stanno andando via io ti aspetto vai ero tutto incasinato troppe emozioni troppe emozioni però sono cose sono cose molto belle secondo me a me fa un sacco piacere cioè non incasinar la gente però cioè io non avrei mai immaginato un momento di ritrovarmi con persone emozionate nel vedermi no neanche io c'è la scena la scena da Michael Jackson che abbiamo fatto allo stand col tizio che ci prendeva a panzate ma infatti le cose le cose che vabbè le cose che più mi ricordo no è quando eravamo quando eravamo allo stand di Hans praticamente c'era un botto di gente e avevamo il bodyguard il bestione credo Fabio non mi ricordo più ci ho fatto amicizia non mi ricordo più grande grande e un bestione di un metro e novanta una roba che non finiva più bello grosso che a un certo punto ha iniziato a spanciare la gente per farci passare sì sì questa scena era bellissima perché mi prende da un braccio io mi sentivo un po' tipo è presente Olivia nel braccio di ferro con le braccia così molli mi ha preso da un braccio e inizia a spanciare gli altri mentre mi tirava ho detto ma io volevo solo andare in bagno non c'era bisogno di fare tutto sto casino inizia ad ammazzare le persone con piedi panze in chat il nostro moderatore ci dice di ricordarti quando volevamo entrare di soppiatto nella cucina dello stand per prendere le pizzette è stata colpa mia è vero io vi devo chiedere scusa è stata colpa mia ho provato a corromperli perché non so se voi lo sapevate allo stand di Hans allo stand di Hans io avevo scoperto che le pizzette fresche erano erano allo stand di Hans allora io io tutto coglione vado da Dino e gli faccio oh Dino vieni con me non ci siamo neanche salutati lo vedo vieni con me vieni e se ne va io lo seguo e ci buttiamo sembrava sembrava se si manda a fare altro sembrava la pantera rosa esatto esatto io lo prendo dico vieni vieni c'è lo stanzino con le pizzette fresche e ci hanno sgamato subito me lo tiro dietro appena apriamo la pola qua c'è la pizzetta la mano ha fatto così ho sentito c'erano con le impc di Skyrim e dietro c'era la guardia ehi tu non puoi ehi tu fermo e lui ah no non posso non puoi apriamo la porta mi trovo la tizia voi cosa fate qui voi non potete stare qui questa roba ma poi questo era il nostro primo giorno allo stand di Hans dove dovevamo farci conoscere da tutti è stato bellissimo grazie abbiamo fregato il cielo abbiamo fregato il cielo ma letteralmente la prima cosa che abbiamo fatto perché noi siamo entrati non ho neanche salutato nessuno di Hans proprio nessuno dello staff noi siamo arrivati di mattina c'era anche poca gente e proprio abbiamo visto te e siamo subito andati a delinquere meraviglioso meraviglioso è stato spettacolare e a un certo punto hai iniziato a distribuire le Red Bull alla folla comunque io mi diverto un sacco alle fiere perché io alla fine mi diverto un sacco incontrare la gente cioè io non sono timido come persona quindi mi diverto un sacco tipo a lanciarmi in mezzo alle persone guarda io invece io invece sono arrivato sai come sono arrivato allo stand io sono arrivato allo stand di Hans appena arrivato mi sono messo lì al bordo con tutta la gente ho cominciato a urlare Greenball fai schifo fai schifo e sono messo la gente che mi guardava io buh Greenball fai schifo giusto c'è nel senso c'è giusto e ma no cos'è che volevo dire scusami dicevi sì allora un'altra figura di merda che abbiamo fatto andrà purtroppo non c'era perché quel giorno se ne stava a casa a non so a lucidare le scarpe noi praticamente abbiamo fatto una collaborazione con dei ragazzi non c'erano soldi in mezzo era proprio una collaborazione con queste persone che conosciamo dove praticamente abbiamo fatto una sorta di computer nostro targato cop tv in collaborazione con questi ragazzi e la prima persona che l'ha acquistato questa è follia non sei pronto è stato tipo una settimana no neanche due giorni dopo aver annunciato questa cosa comprano il primo pc tra l'altro un pc bello importante da 4000 passa euro quindi noi strafelici che figata allora ammazza allora abbiamo deciso insieme a questi ragazzi qua di pc frog di andare a casa di questa persona a consegnare il computer una volta pronto per fargli una sorpresa no così almeno vedeva il pc c'ero io quindi io mi sa che avevo il covid fino a qua per adesso e fino a qua è una storia normale allora saliamo in macchina con questo scafandro gigante di pc arriviamo ai limiti dei confini di milano non c'era niente un campo una casa entriamo in quella casa suoniamo ci apre arriva quest'uomo di avrà avuto una 50 centina d'anni piccolino un momentino d'ufficio appena tornato dal lavoro fa scusate scusate seguitemi scusate seguitemi perdonatemi se avevo risposto in ritardo ma bla 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 stavo preparando la cena io ho detto no micchia dimmi che questo adesso ci invita a cena io non posso volevo un caffè al volo al massimo queste cacate qua non avevo tempo che dovevo fare altro e non avrei saputo come dir di no allora ci portano su apre la casa e fa eccoci e ci guardiamo io Fabio di pc frog e quest'uomo eccoci cosa e io gli ho detto bene e gli dico ma il computer è per te è una sorpresa capito il computer è per te il computer è per me dov'è tra l'altro questo signore poverino era un po' strabico non penso avesse ben intuito che cosa stesse succedendo perché avevamo mille scatole ma eravate in 50 potrebbe essere una scena ero io e Fabio eravamo io e Fabio Lavalle a casa di questa persona che ci dice scusate mi stavo aspettando qualcuno per cenare c'era un pianoforte due candele accese c'era una situazione stranissima veramente strana e c'eravamo noi e c'eravamo noi e c'eravamo noi con un computer in mano non ha senso il computer è residentivo però non è fidati che non sei ancora pronta al colpo di scena pensavo fosse un serial killer appassionato di gaming ci sta ognuno può allora gli abbiamo gli abbiamo gli abbiamo dato il computer lui ci sorride e ci fa volete un caffè no no grazie no non c'è problema volevo solo consegnare il caffè e io lì un po' sai insomma stavo aspettando il momento in cui magari fa entrare il figlio ci facciamo le foto e dice eccoci a un certo punto non succede niente un minuto un minuto il minuto più lungo della mia vita di silenzio mentre noi ci guardiamo nelle palle degli occhi con il pc davanti ai nostri piedi in questa casa arredata perfettamente pulita c'era una puzza di cavolo perché aveva fatto una cena strana no ma mi hai detto asparagi tu asparagi cavolo quel cazzo che era c'era puzza di ma scusate ma potevate dirgli rivederla questo è il computer che cazzo è infatti io ho detto no perché mi era stato detto dobbiamo fare il video mi raccomando così vediamo la reazione per dirti nel mentre la lavare aveva il telefono acceso che stava filmando ma non volevamo filmare i cazzi di sta persona quindi stava puntando per terra sembravamo degli inviati delle iene era stranissimo era verità davano per scontato che fosse uno del canale perché e allora io a un certo punto gli dico ma hai capito chi sono una figura di merda anche qua devastante e lui fa e lui mi dice certo quello che mi ha portato il pc ho detto no no cioè sì tecnicamente ho detto coop tv e lui fa sì ho detto è coop tv sono il creatore del canale coop tv gaming horror night il pagliaccio su internet perché non avrei più parlato con i bambini sotto show lui a un certo punto fa e non ho idea di chi sia ho detto no ma scusami ma hai un figlio o qualcosa fa no no sono single mi tanto ti ha tenuto a specificare single da due anni vabbè vabbè poverino magari stava aspettando la tizia di tinder o un escort visto l'avretamento della situazione e io gli ho detto ma scusami allora il computer cioè perché hai comprato il computer targato coop tv e lui fa e che ne so io ho trovato un link su internet ho cercato computer l'ho trovato l'ho cliccato l'ho ordinato 4000 euro di computer 4 persone in casa di uno sconosciuto col pc così alle 7 e mezza di sera tutti felici per fare l'evento era la cosa più bella della vita questo qua non aveva la minima idea di chi cazzo eravamo eravamo in casa di questa persona magari pensava coop la coop no 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 lui ha detto di aver ricevuto un link da qualcuno che forse segue il canale magari magari seguiva che gli ha inviato il link per questo computer da gaming e lui ha preso l'ha comprato e quindi poi niente eravamo a casa di sto qua ma ti giuro ma io non mi sono mai sentito così a disagio in vita mia poi siamo scesi giù come hai fatto ad andartene poi come hai fatto a troncare il discorso nell'imbarazzo mi sono lanciato dalla finestra ma Andrea ma secondo te ci siamo salutati e ho detto ah beh grazie mille è stato un piacere poi a un certo punto è bello che la situazione che mi ha tratta così e così perché quando abbiamo capito che lui non non aveva la minima idea di che cosa stesse succedendo siamo diventati dei fattorini cioè io a un certo punto ho preso la cartella e ho detto bene perfetto deve firmare qui grazie mille è stato un piacere ha firmato a un certo punto gli ho detto ecco qua questo è Fabio il tecnico del computer adesso le spiega com'è il montaggio poi trova la scheda con tutto quanto il computer e Fabio lui fa perfetto ecco grazie lascia fare a me a un certo punto si è messo tecnici perfetti bravissimi ce ne siamo andati via mentre la Vale stava registrando tutto tenendo il telefono per terra cioè una roba allucinante e niente poi ce ne siamo ce ne siamo andati via giù disperati nel parcheggio a piangere Fabio mi fa che figura di merda è stata una cosa bellissima ma come è stata una cosa strana è stata una cosa che se ci segue quella persona da quel giorno secondo me continua a non sapere no gliene frega assolutamente una bene amata ma a certo punto io per tirarlo dentro ho provato anche a parlare un po' di videogiochi gli ho detto cos'è che stai giocando in questo momento e lui mi fa no in questo momento non sto giocando a nulla non c'era non c'era proprio un collegamento tra queste trasmissioni quindi ha preso un computer da gaming da 4.000 euro però non ci gioca e niente stava facendo magari ha fatto i prendi gli acquisti che ci fanno alle 3 di notte gli acquisti la comfort un signore comunque delizioso molto educato da ubriachi allora è stato molto educato delizioso per fortuna non ci ha invitato a cena non perché ma perché no sai che ridere sai che ridere mi facevo tutta una cena magari pensa non dicevamo nulla quindi rimaneva sempre quel detto e non detto voi lui la escort che aveva chiamato cioè meraviglioso lei è Katyusha ecco esatto è colpo di cena questi sono tuoi parenti colpo di cena eccolo Andrea ci siamo perfetto è andato e poi niente poi a raccontare a raccontare la gente nessuno ci credeva perché effettivamente beh a me è rivenuto in mente quando eravamo piccoli non esisteva ancora Twitch quando siamo saliti sul tetto del palazzo e sono arrivate le guardie di Sky basta questa storia per favore non voglio raccontarla è veramente ti deprime vero ma si eravamo ubriachi 15 anni erano le 10 di mattina ma cosa dici vedi che tu eri ubriaco fradis ubriachi ragazzi anche io ho fatto le cose più impensabili e sinceramente ripensandoci adesso è un miracolo che non sia finito in galera adesso sono sopravvissuto a tante cose avrevo rischiato tante volte da ubriaco di fare cose molto strane quindi voglio dire ma anche non da ubriaco questa è la dimostrazione che devi vivere cioè c'è un destino diverso capito come quella volta che a 18 anni che avevo il foglio rosa ed ero sobrio ho deciso di rubare le chiavi della macchina di mia madre per farmi un giro senza che lei lo sapeva beh perfetto e gli ho parcheggiato gli ho parcheggiato la macchina in un posto diverso lei la mattina si alza mi hanno rubato la macchina però io tutti io in silenzio così mi hanno rubato e tu non hai detto niente non potevi dire guarda io zitto a un certo punto mio padre vado a mio padre no mio padre è rispettore di polizia quindi mio padre è una persona che è un minimo diciamo la logica è merito allora mio padre le fa ma non è che per caso la tua auto non è stata rubata ma quel coglione di tuo figlio già che è un foglio rosa te l'ha presa senza allora mio padre è tutta una situazione incredibile perché mio padre è incredibile che fa morire da ridere però ha una capacità tipo tipo gli interrogatori della cia mio padre è uguale magari è lui che ha compilato quelle domande mi ha chiamato mi fa con la voce proprio fa Andrea e io si dimmi fa ho una domanda e io dimmi tranquillo dimmi dimmi papà dimmi non è che per caso hai preso tu la macchina di tua madre e io no non lo so mi fa no perché se tu mi dici che non l'hai presa io mi fido non l'hai mi fa non l'hai ah è poliziotto buono è poliziotto cattivo nello stesso interrogatorio sì va bene l'ho presa io mio padre no 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 niente mette giù ah mica questo è terrificante ma è terrificante questa cosa devo uscire la macchina io nel frattempo ero fuori capitolo io di casa ero fuori torno a casa mia madre si affaccia dalla finestra che mi vede e io penso che l'intero emisfero boreale abbia sentito mia madre dalla finestra mi urla sei uno stronzo io credo che tutto l'isolato però guardiamo al lato positivo hai preso la macchina era forse una delle prime volte che guidavi sì perché ho preso anche una strada in contromano quindi però non è successo niente quindi vedi no per appunto ti ricordi due secondi fa ho rischiato di morire tante volte ecco questa è una di quelle prendendo strade in contromano è una di quelle una di quelle di quelle volte che purtroppo ho rischiato ma come quella volta che mi hanno fermato i carabinieri quella volta che mi hanno fermato i carabinieri per il controllo dell'alcol test io non so perché mi è uscita così cioè non è che l'ho fatta proprio mi è uscita spontanea cioè mi ferma il carabiniere mi fa abbassare il finestrino mi guarda e mi fa abbiamo bevuto? sì sì signor capitano io in tutta non so l'ansia guarda mi faccio magari la battutina lui fortunatamente si è messo a ridere ma per fortuna che ho beccato il carabiniere burrone se voi siete in america se voi siete in america ti avrebbe scaricato un caricatore avrebbero mi avrebbe trivellato mi avrebbe sparato malissimo oppure un'altra volta è stata ancora più divertente però qua ho la giustificazione cioè qua questi erano pazzi cioè praticamente stavo guidando con la mia immaginati una strada di notte vuota non c'erano automobili pedoni una strada io stavo andando con la mia macchina ma a una velocità normalissima mi passa dalla parte opposta un'auto della polizia municipale questi come mi sorpassano accendono le sirene ma sparate a mille scasano fanno un'inversione a U mi vengono dietro e mi dice ferma ferma io fermo la macchina che cazzo va a fuoco motore gli era salito gli era salito il Miami Vice per un secondo no ma la cosa bella è che anche qui risposta una coglione per fortuna l'ha presa a ridere ma arriva il vizio l'urbano mi arriva il vizio l'urbano che mi fa passare il finestrino io lui non dice niente io la prima cosa che gli dico ma io ero proprio scemo da ragazzo io la prima cosa che gli dico gli faccio mi avete beccato il cadavere nel bagagliare lui mi guarda lui mi guarda così gli ho detto no sto scherzando gli ho detto no sto scherzando non è non è per fortuna che ripeto si è messo a ridere anche lui però cioè si ho capito io rischio alla galera ho capito ma ti sembra normale che due vabbè se fosse stato un altro poliziotto se fosse stato un altro poliziotto avrebbe tirato fuori erfero devo essere sincero che ma ragazzi ma scusate ma che cazzo di manovra è cioè ma che cos'è gli era diventato coso ma io mi vai guarda guarda avessi un minimo di questo potere anch'io lo sfrutterei in questo modo anzi io anche peggio cioè farei accostare la gente urlando con le sirene eccetera solo per chiedere l'ora a caso fermo 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 gli spari le ruote c'è un delirio un macello ad accendere io ho avuto le poche volte che ho avuto a che fare con i poliziotto sono state esperienze orribili l'abbè raccontata anche l'altra volta l'altra volta lì dei carabinieri che bussano ancora ma quante volte devo raccontare ma poi l'abbè già raccontata lui l'abbè già raccontata sei volte ma le esperienze brutte con i poliziotti capitano sempre perché sai i poliziotti sono come tutti anche lui se le cerca una volta siamo entrati in un bar completamente a caso ti giuro c'era un bar a condizione familiare un bar di balordi c'erano c'era il barista che stava servendo della grappa di riso al pazzo del quartiere due carabinieri io Andrea un altro amico entriamo dentro il bar e la prima cosa che accade è che fermano lui Andrea e iniziano a perquisirlo ma completamente no però proprio entro fermo c'erano spacciatori alcolizzati era un bar dove c'è il peggio del peggio del peggio il barretto di quartiere appunto appunto e vedono lui infatti vedono lui e infatti tra l'altro lui aveva chiesto ma io che cosa ho fatto non ho fatto nulla di male cioè della serie c'è altra gente ogni volta che c'è la turità davanti c'è altra gente che dovrebbe essere controllata Andrea appunto io mi stavo aspettando la risposta infatti infatti io mi stavo aspettando la risposta della polizia delle forze armate che magari loro stanno facendo il loro lavoro da spacciatore sei tu che sei strato la sfido tipo anche quando c'è malattia le Wamerlang e c'è tutto in video che il mio giubbotto che attualmente suona in ogni supermercato dove adosso perché è rubato Andrea te l'ho detto di togliere la targhetta da sotto quindi mi prendono per un taccheggiatore io una volta che sono davanti l'autorità che mi dice ci spogli mi dai perquisire allora fermi fermi allora lui ha un giubbotto lui ha un giubbotto con una tasca interna quella rideva la cinese mentre mi perquisiva rideva dai ma che rideva ti voleva ammazzare che rideva tu e tutto il mondo no 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 allora lui ha un giubbotto con una tasca interna sono sicuro che lui sia lui taccheggia lui ruba perché sennò non si spiega questo cazzo di giubbotto suona beh mi rifiutavo a caso lui il fatto è questo che praticamente suona noi eravamo andati alle Rua Merlin e poi eravamo andati in questo negozio per due volte non avevamo preso niente neanche un bullone non cazzo e stavamo pagando tutto quello che avevamo preso ma questo cretino qua quando la gente inizia a chiedergli hai qualcosa in tasca lui fa il vago perché secondo me lo fa a posto e quindi diceva diceva svuota le tasche svuota le tasche e lui quali tasche? io non ho niente quali tasche? questa qui? e continuava ad aprire e far vedere c'è la tasca e quella lì fa sì quella tasca e lui richiude il giubbotto ma cazzo ma fai vedere che la tasca non è niente a un certo punto anche lui ha iniziato a sospettare è arrivato tipo clueto a un certo punto io a un certo punto vado dalla cassiera e inizio a dire e inizio a dire no scusate non sono dei pubblici ufficiali non sono dei pubblici ufficiali posso rifiutarmi quanto mi dai fastidio ma chi se ne frega ma che cazzo vuol dire ma hai rubato qualcosa? no è per forza aveva preso una fresa o un colpo no no in realtà in realtà abbiamo constatato che è l'etichetta probabilmente perché è un giubbotto di Demu ma hai rubato quel giubbotto ma dico io almeno ho fatti furbo ma hai rubato un giubbotto ma togli quella cazzo di cosa perché palesemente hai rubato quel giubbotto è palese non è possibile lei ha rubato sì il giubbotto ma qua non li vengono sì esatto l'ho rubato qua ma è stato tempo fa effettivamente sono tutta un'altra persona adesso è tutto diverso una cosa che faccio io per impazzire la mia ragazza quando andiamo al supermercato tipo le cose supermercato le ruo a Merleggio di lì a un certo punto comincia a urlare sta rubando sta rubando sta rubando e c'è la gente che si gira e lei è insitto ma così solo per farle incazzare però poi arriverà in live con qualcuno un occhio nero un teaser provabile ma io la faccio sempre incazzare quando siamo fuori voglio dire cioè continuamente però mi fa un sacco ridere vabbè fa bene al cuore comunque certe emozioni le tengono attive ci sta ci sta ci sta è più forte di me è come quando litighiamo tipo al supermercato che parte il battibecco la scaramuccia per una cosa banale si litiga sempre al supermercato io la mia ragazza completamente a caso le dico se non la smetti di brontolare comincia a urlare e lei comincia a fare e io mezzo al supermercato io invece sono l'opposto di te io quando quando si parla quando si parla e si alza un attimino sopra i decibel consentiti dal mio livello di silenzio che si deve avere in un luogo pubblico io proprio mi pietrifico quindi quando si sta parlando magari ci saltano i nervi tipo appunto quando è capitato di litigare discutere appunto al supermercato per qualche stronzata allora io inizio inizio a incazzarmi perché la situazione non la posso controllare io sono fatto così allora vorrei che tu no no a un certo punto praticamente parte l'arabia e inizio a fare per favore non è il luogo adatto zitta e divento veramente strano diventi una mamma a cinquantenne col bambino si 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 e fai non farmi fare scelte si si inizio a stringere i denti adesso basta basta a casa ti disinterno si si la frase che ho ripetuto un sacco di volte ne parliamo dopo a denti stretti ne parliamo dopo adesso basta io invece urlo cioè io faccio girare tutto il supermercato ottimo ottimo e lei si incazza perché dice non farci non far sentire la cassiera i nostri problemi io no io non ho non ho quello io parla voce altissima in generale quindi non è che no io io non riesco tra l'altro tra l'altro però va detto che io grazie al mio fascino appunto da bad boy da tenebroso che taccheggia io con la cassiera del Merlin l'avevo palesemente rimorchiata i criminali affascinano i criminali piacciono un sacco alla fine quindi ci sta è lecitissimo allora io adesso non voglio non voglio far cannulare questo bellissimo castello di carte ma lui dice di averla seduta la ragazza semplicemente parla non so per quale motivo ha chiesto se avessi stessimo mangiando dal mcdonald se avevamo rubato qualcosa perché sostanzialmente io ho detto vabbè ma mica rubiamo erano letteralmente dei bulloni dei bulloni del castello mica rubiamo sta roba da 2 euro e lui ha detto è passato al mcdonald però ti puoi fare qualcosa e la tizia ha detto no però al mcdonald ormai anche i toast costano tanto questa è stata la conversazione ergo ci ha provato con me quindi tu stai aggravando ancora di più la situazione giustificando un furto di bulloni non è stato tanto l'evento all'erua merlin quanto quando siamo andati in questo negozio che non so neanche come cazzo si chiama che c'era è un negozio che tutta la famiglia tutta la famiglia tutta la famiglia asiatica si è alzata dalle casse si sono avvicinati a un certo punto la signora è arrivata tirato fuori ti giuro un metal detector dalla tasca lungo così non so neanche dove cazzo lo teneva è arrivata a squadrare lui per vedere che cosa cazzo avesse rubato lui indietreggia dicendo io no non l'ho rubato io facevo l'ignore e a un certo punto sbatte con le spalle contro l'altro ragazzo asiatico dietro con un manganello in mano dietro così che rideva faceva era la follia e lui continuava a fare il vago cioè bastava dire no guardi subito le do il giubbotto e le faccio vedere non ho niente in tasca questo continuava ad aprirsi questa tasca qui no è vuota quest'altra non è che le apriva le indicava ma no non c'è niente ma cazzo e col mettere il tetto quello fa no lì qualcosa e continuava no è vuota non c'è niente e continuava andava avanti così andava avanti così e cioè non si finiva più non si finiva più quindi morale della favola cambiate giubbotto perché voglio dire non indossare più col giubbotto oppure sistemolo fixalo oppure non taccheggiare ma poi è allucinante quello si fa quello taccheggiare è la base poi invece c'è il suo sistema di difesa che è quello di urlare nelle situazioni di imbarazzo alzare la voce ma lui già di suo parla molto alto però quando è anche nei casini inizia ad alzare la voce quindi ha iniziato a cercare allora il fatto sta che a cercare la complicità diciamoci la verità noi già gli stavamo sulle balle a quelle persone perché appena siamo entrati dentro un negozio la prima cosa che ha detto lui è stata ma li accendono i condizionatori qua che fa un caldo porco no era il contrafano c'erano meno 20 gradi c'erano meno 20 gradi li accendono il riscaldamento che fa un freddo porco proprio lui è entrato urlando sta cosa davanti alla signora che proprio lei fa buongiorno e questo qua ma li accendono il riscaldamento no l'hai detto esattamente così ho detto figa ma si gira qua dentro che cazzo è perfetto subito urlando prima cosa davanti alla proprietaria del posto prima la mentela da parte del cliente che poi il cliente la deruba e successivamente dopo fa il vago mentre la stamperquisente ma guarda guarda che io sto constatando comunque una costante fissa universale tutti gli streamer fanno fatica a trovare un lavoro normale perché sono tutti mentalmente strani sì 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 ma è orgullo bisogna essere centrici ma io di lavori ne ho cambiati tantissimi sono finito a fare il bibliotecario perché era praticamente il lavoro dove non parlavo con nessuno stavo da solo e non potevo far danni perché io qualsiasi altro lavoro che ho fatto ho fatto dei danni ma ho fatto dei casini cioè cazzo chissà quante ne hai viste da bibliotecario ma guarda le risse che facevo durante il volantinaggio io risse non mi è capitato però tipo una volta ho lavorato un mese alle farmacie comunali dove facevi il magazziniere ecco lì abbia rischiato tantissimo di essere menati dal capo magazzino facciamo le parti c'eravamo c'eravamo praticamente però lì dai cazzo lì me l'hanno tirata cioè praticamente in questo magazzino c'era un rullo sollevato in alto che percorreva tutto il magazzino tipo AS a zig zag al fine di portare gli scatoloni dei prodotti vuoti in un gigantesco contenitore dove venivano buttati solo che io e il mio amico due deficienti cosa ci siamo messi a fare ci siamo messi a fare i tiri da basket con le scatole vuote mi ricorda Malcom l'episodio di Malcom solo che a un certo punto il mio amico imbecille tira troppo forte la scatola che scavalca finisce tipo in testa un impiegato lì dietro e noi sentiamo da dietro chi è il coglione che lancia le scarpe bene ma le scarpe la scatola conteneva dentro siringhe o cose del genere no era vuota fortunatamente però devo dire è stato esilarato mamma mia meraviglioso e invece da bibliocchettario non ti è mai capitata nessuna situazione strana tipo un vecchietto che si avvicina e ti chiede un libro particolarmente non sei parito all'improvviso non sei parito per l'Egitto tipo nei film degli anni 90 diventavano tutti egittologi io abito a Bologna le cose che io ho visto nel bibliotecario come diceva il film voi umani non ve le potete allora la più eclatantica quella poi che è anche finita sui giornali la mia chat lo sa benissimo è il tizio che si è fatto una sega sborrato addosso una ragazza in sala studio questa è finita anche sui giornali io sono arrivato quel giorno in servizio c'era sta ragazza che mi piaceva ma è traumatizzata poverino si è fatto una sega e sborrato sulla ragazza ma come ma perché ma come ma perché e tu buongiorno ecco il suo caffè a casa sono appena arrivato buongiorno questa questa è la più eclatante perché finì anche sui giornali che sto qua poi l'hanno preso ma sto qua era uno che andava a farsi le seghe in sala studio sborrava un suo fetish non mi chiedere quale hobby no ma quella quella però quella questa qui è anche disgustosa quindi una molestia è una molestia l'ilarità è limitata al contesto invece cose proprio hilare mi sono capitate cioè una volta perché in questa biblioteca dove lavoravo che era in via Zamboni c'era anche la donna con le macchinette dove prendevi il caffè la merendina l'acqua che era subito fuori la sala studio tutto in un edificio però subito fuori minchia cosa mi hai fatto venire in mente dove c'è un animaranza no non proprio io esco fuori per andare a prendere un caffettino e vedo un tizio con una giacca e le crocs che stava spazzando per terra ma solo la giacca e le crocs si erano tipo dei pantalucini sbragati allora io non capisco sul momento torno dentro vado dal collega vado dal collega e gli dico ma abbiamo assunto un nuovo ragazzo delle pulizie il collega mi guarda ma che cazzo perché erano tipo le nove di sera ma che cazzo io ho detto ma c'è uno che sta spazzando lui è venuto a vedere morale della favola questo era un drogato che in preda agli effetti della droga si era messo a spazzare per terra è utile come limitless Bradley Cooper che prendeva la pastiglia e diventava ordinato questo è uno un'altra volta invece mi becco uno e mi trovo e vedo uno in mutande nell'area ristoro c'era un tizio in mutande che stava facendo delle flessioni tu già esci vedi questa scena vedi uno in mutande poi si alza in piedi e andava a chiedere i numeri alle ragazze dicendo se non mi dai il numero vado in sala studio a urlare ah bene ottimo sarà stato un video sarà stato un video un prank su youtube secondo me era uno che dalla teoria voleva passare alla pratica stava leggendo qualcosa di anatomia e poi ha detto basta adesso io divento divento era matto perché io sono andato da lui e ho detto cos'è che vuoi fare non ho capito scusami vado in sala studio e ho detto sai che io sono quello ti levi dal cazzo o ti faccio lui è andato via questo in mutande a far flessioni che cazzo dei drogati mi hai fatto venire in mente una scena bellissima io stavolta non c'entro nulla anche se avevo ragione perché ero anche qui sì assolutamente ero al viridea al viridea e stavo ero alla cassa e dalla cassa potevo vedere la zona ristoro una voce di animali dillo a chi non sa in realtà vendono tutto di tutto per il giardinaggio eccetera no non è importante ok ok cioè in realtà anche sì vabbè comunque c'era la zona ristoro con le macchinette una finestra di una porta finestra di vetro e questa mamma con figlio che stavano prendendo un caffè e una bibita che cazzo ne so e io ero lì che stavo pagando a un certo punto la signora mette dentro le monete e prende da bere la bambina la bambina si gira e davanti al vetro una minchia di pavone un pavone ma enorme è vero che ci sono c'è la fauna c'è pure le capre un pavone enorme ma gigante la bambina era alta un 70 centimetri sto cazzo di pavone era alto quanto lei la guarda nelle palle degli occhi da dietro al vetro e tira una testata fortissima contro il vetro la bambina lancia la bibita urla e inizia ad urlare ma come una pazza la madre si gira perché pensa di vedere la figlia che si è fatta male si è bruciata magari con qualcosa di bollente si gira e vede un dinosauro che prende vita sul vetro e quindi la madre prende la bambina la butta per terra e inizia a correre pure lei perché era terrorizzata dagli uccelli e la cassiera si alza e va a vedere che cazzo sta succedendo si beh ovviamente la cassiera si alza e va a vedere che cazzo sta succedendo mentre parte lo speaker che fa incazzare il pavone che diventa ancora più grosso e inizia ad andarsene per i cazzi suoi dall'altra parte però la cosa strana la cosa strana è che da quel giorno lì i pavoni li hanno tolti perché lì lì c'erano i pavoni praticamente tu potevi farti il caffè e avevi i pavoni nella zona ristoro però erano divisi c'era il giardino zen con i pavoni le carpe e sono divisi dalla clientela a meno che gli vai a rompere i coglioni o vai a oppure le capre questa qua ma ti giuro non hai visto così tanta paura negli occhi di un essere umano c'era il pavone che voleva dare una testata gli ha fatto stronza il pavone non so si è ingrifato tantissimo come le ocche figa le ocche le ocche sono il cazzo di cani da guardia i pavoni sono sono quegli uccelli occhi e papere sono cattivi sì 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 poi ci sono tre ocche qua nella cava vicino a casa mia ci sono tre ocche che vanno insieme sempre insieme insieme in giro tipo Cerbero Cerbero tu le vedi che si mettono tipo nelle strade tu non puoi passarti lì perché fanno tipo soffie e ne fanno le cariche sono come di cani da guardia sono territoriali le classiche nutri nutri che ci sono lì da te Andrea io una volta ho beccato anche una complottista una volta ci sono pure i tassi qua io ho beccato una complottista lavoro una signora con la figlia che voleva entrare alla biblioteca volevo prendere la temperatura con il termoscanner ah distruggevi la la mi fa no no me la prende qui la temperatura io ero lì che guardavo dicevo che cazzo ho detto perché e mi fa eh la ghiandola pineale mia la famosa ghiandola pineale che hanno conosciuto i complottisti nel 2021 io non lì non l'ho detto niente perché però volevo dire signora a parte ripeto che il termoscanner non è a batterie nucleari non è un laser che mi trapana il cervello cioè non è un laser una trivella elettromagnetica è un laser le telequise sono le troiate che leggono su facebook la ghiandola pineale è quella del ciclo sonnoviglia che cazzo c'entra no vabbè e anche la figlia ovviamente sul polso perché povera bambina povera bambina ma aveva la febbre no cazzo speravo io avrei fatto finta signora 40 di febbre guardi 36 e mezzo ah ottimo no fuori dai coglioni così a caso signora al terzo chakra è rovinato escono un po' vabbè ma quelle quella è la gente che è matta voglio dire cioè è detto da me fa ridere secondo me sono da considerare povere vittime perché sono persone ingenue che leggono appunto queste stronzate sui social io ci ho fatto una carriera con i complottisti quindi non mi posso neanche lamentare nel senso mi compaiono spesso i tuoi video dove rispondi c'è il commento sopra e stai rispondendo un commento stupidissimo di qualcuno oramai oramai io non avrei mai pensato nella mia vita vi giuro mai pensato che esistessero così tante persone che credono che la terra sia piatta che l'evoluzione non esiste cioè ma io prima di entrare su TikTok pensavo che questa gente fossero quattro di numero ma è pieno ma poi io credo sia anche una cosa proprio psicologica cioè fanno comunella perché vogliono devono appartenere a qualcosa perché cercano risposte semplici a problemi enormi cioè quello c'è il senso io credo che ci sia questa volontà di unirsi in gruppo più che altro quindi a prescindere dal motivo si uniscono in gruppo quindi appunto la terra è piatta ma poi non è neanche una risposta semplice perché con alcuni terrapiatisti ci ho seriamente discusso cioè le teorie che sternavano erano oro colato cioè dicevano che la terra è un disco piatto con a bordo un muro di ghiaccio il muro di ghiaccio bellissimo e poi il muro di ghiaccio si estende all'infinito e ci sono tanti tanti buchi dove praticamente ci sono altre terre piatte sì altri continenti praticamente ma è geniale ci credo anch'io adesso è bellissimo è bellissimo può fare un romà un romà attack on titan cioè il romanzo i famosi mondi paralleli sono questo ne hanno di fantasia però c'è da dirlo ma io non ho idea ma poi anche e poi basta un telescopio cioè basta un telescopio per sfatare sta roba della terra piatta però vabbè giustamente non serve a niente non serve a niente un terra piattista ha fatto un esperimento con un laser perché voleva dimostrare che la terra è piatta con quell'esperimento ha dimostrato che è sferica e ha detto ci sono degli interventi che stanno cioè delle forze superiori che stanno minando l'esperimento ma aspetta ma era quel video il laser è in mano ai poteri forti sì quello che fa ah interesting era quel video lì famoso di quelli che puntano il laser di notte e quello che fa ah si smettano manca il tizio manca il tizio del raggio quello che manda il raggio per riprendere la curvatura perché dicevano le telecamere sono in mano ai poteri forti la curvatura nelle telecamere che si vede su internet è perché c'è il Fisciai che in realtà il Fisciai va verso l'alto qui la curvatura è verso il basso quindi già questo spetterebbe Fisciai al contrario mettiamola così ha preso una sua telecamera controllata da lui ha maiato il razzo in orbita il pallone là meteorologico in orbita si vede la curvatura l'ha preso effetto ottico effetto ottico effetto un effetto ottico ma è ovvio ma tanto non capito anche se glielo fai vedere non negare negarebbe l'ora in realtà di base quindi voglio dire stiamo parlando di aria cal cioè di gente incapace di capire la realtà delle cose è incredibile come il progresso porta a regresso mi hanno detto in chat di dirti pa 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 ah sì sì è un meme caratteristico proveniente da Son of the Forest gioco peculiare dove ogni volta che apri l'inventario e fai un'azione come comporre un'arma o costruire qualcosa il gioco fa pa 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 e quindi praticamente era diventato era diventato un meme perché ogni volta che aprivi l'inventario ecco il fatto adesso in chat comunque stavo parlando stavo parlando con Andrea io tempo fa 2018 seguivo Neurodrome un canale italiano di youtube che trattava queste cose tu la sai la roba delle stringhe numeriche delle stringhe numeriche quella che si scrivi un codice numerico tipo il codice del successo se tu scrivi quel codice numerico e ti ci dormi sopra te lo tieni nel portafoglio avrai successo nella vita sì l'avevo presente sì ecco ancora molto in voga quella sì no no ma io ho conosciuto e ho parlato personalmente con una persona e non sto scherzando che mi ha detto se hai problemi di insetti di mosche in casa che ti entrano per dire no gli insetti estivi appendi al muro un foglio con il numero 7 zampironi zampironi no io non mi che dicevo che cazzo no no perché poi dopo questa cosa è vera c'è anche gente insospettabile c'è gente magari con una laurea che ti dice ste cose io mi immagino la mosca che entra fa oh cazzo il 7 no 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 dobbiamo andare via ragazzi no c'è il 7 c'è il 7 andiamo a me c'è il 7 andiamo ma che cazzo io l'oroscopo io l'oroscopo lo metto alla stregua delle teorie complottistiche con tutto rispetto per Paolo Fox che sicuramente ci sta ascoltando l'oroscopo con tutto rispetto nel mondo non esiste delle masse di gas incandescenti non influenzano nei caratteri nelle giornate per carità è una roba affascinante come l'occultismo che io a me sono appassionato di occulto però sono consapevole che è tutta una roba simbolica sì ho capito affascinante ma simbolica anch'io sono appassionato di paranormale però c'è sempre il limite del fatto che a me piace l'idea sarebbe fighissimo dimostrare che esistono i fantasmi però fino adesso guarda non dico niente ma lo dimostreremo a breve c'è qualcosa che bolla in pento non posso dire niente ma lo dimostreremo non c'è andate a fare i cacciatori di fantasmi da qualche parte esatto è proprio preso alla cento per cento sai che ci stavo pensando anch'io avevo trovato un manicomio abbandonato a Ferrara solo che purtroppo è di proprietà del comune quindi non poter entrarci se non era violazione di domicilio facciamo così noi stiamo organizzando la prima puntata sei ospite già alla seconda la prima la facciamo giusto alla seconda ci organizziamo e andiamo tutti insieme a fare come Dio comanda un'esplorazione io l'ho fatto una volta con dei miei amici siamo andati a una villa abbandonata nei colli bolognesi di notte buio non si vedeva niente la scena è stata esilarante perché noi siamo arrivati in questa villa abbandonata parcheggiamo le macchine io ero lì che va bene andiamo a trovare Casper e gli zii entriamo in questa villa abbandonata io non vedevo un cazzo di niente andiamo pure a dei ladri dei drogatti i miei amici entrano un po' sentono un rumore generico e scappano è un classico potrebbe essere un topo una volpe io mi giro dico va bene andiamo torniamo indietro è un classico però quindi tu scientificamente non credi che siano possibili gli spiriti o comunque cose come possono essere poltergeist vabbè i demoni nel concetto religioso lasciamo il perdere no vabbè non voglio parlare di robe di demoni però guarda io ritengo che fisicamente abbiano dei grossi problemi in termini di esistenza perché come ho detto mille volte oramai che mi seguo la sua memoria un fantasma se lo vedi vuol dire che è fatto di materia se no come cazzo fa a rifletter la luce ma se un fantasma è fatto di materia puoi prenderla a schiaffi come fa un fantasma senza cervello a pensare senza occhi a vedere senza orecchie a sentire senza gola a parlare quindi voglio dire o anche i poltergeist se tu vuoi sollevare un oggetto a quell'oggetto devi imprimerci una forza devi imprimerci comunque devi accrescere l'energia potenziale in quell'oggetto ma per farlo quella forza quell'energia la devi mettere tu termodinamica di base l'energia non si crea dal nulla si trasforma è un cretino con la tuta verde che sta lanciando le cose e poi la realtà con la CGI lo camuffa ma può essere quello perché sennò violerebbe la termodinamica dell'universo non è possibile visto che è una roba impossibile visto che è una roba impossibile secondo me la rende ancora più affascinante esatto però detto ciò il link trovate qua sotto in descrizione il link per i nostri occhialini per vedere ciò che non si può vedere io vi dico solo questo quindi che state aspettando mi raccomando che cazzo sono gli occhialini per vedere ciò che non si può vedere gli occhialini per vedere gli spiriti come il sale la divana marchi che si ah beh 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 il bicchiere certo 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 ragazzi io dovrei scappare perché devo portare fuori i cani che purtroppo iniziano già a evolversi nel mio salotto stanno diventando di diverse specie va bene io passo io passo al momento gaming della sera ah vai cosa giochi oggi ma sai che stavo pensando di vedere un po' come era il morte il morente camminante però non sono sicuro eh il morente camminante il morente camminante ci ha fatto anche la serie televisiva ah ah quel coso come si chiama non della Stofas The Stranding il morente camminante no il morto camminante dai dove c'è Rick ah The Walking Dead ah ma porco due mezz'ora non stavo capendo un cazzo ho capito ho capito ma quindi fai dell'attenzione pensavo fosse una definizione quello narrativo quello della Telltale sì quello lì se non l'hai giocato è bellissimo piangerà piangerai alla fine ma che questo si mette a ridere gli scoppia in fai io guardo già mi immagino le scene si divertirà un casino te lo dico io mi ha morso al primo zombie lui stronzo god già mi vedo ma ci sarà meraviglioso ah ovviamente chiedi chiedi al primo zombie al primo zombie fai le domande della green card americana del traffico di soldi ascolta adesso vediamo 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 un po' come no no comunque è veramente un bel gioco quindi divertiti magari tra l'altro ci metterai un bel po' a finirlo quindi ti puoi fare una bella serie beh ci sono quattro stagioni no 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 non mi permetterei mai di finire un gioco nel mio canale non si finiscono giochi si lasciano tutti a metà questa è la mia regola un po' come noi incredibile un po' come noi solo che noi diciamo che li finiamo e poi non lo facciamo no io lo dico sempre che li finisco poi no ci chiedono ancora giochi non siamo gli unici quindi non rompete le balle voi in chat perfetto non mi sento solo ottimo oh Andre grazie mille veramente per tutto è stato un piacere a voi ragazzi per la chiacchierata abbiamo fatto una seratina diversa a base di chiacchiere è stata una figata che voglio rifare assolutamente anche perché tutte le sere horror night qui il cuore sfarfalla quindi invece così si ho appena finito l'horror di Daniele doesn't matter quindi anche io ho un attimo di taccardia avanzata quindi si oh grazie mille per tutto poi dobbiamo organizzarci per vederci perché ti voglio vedere sì sì che carino anche io vi voglio vedere mi riempono da bracci e bacini esatto veniamo a mangiare i tortellini veniamo a mangiare i tortellini a Bologna ti saluta ti saluta la nostra chat Andre è stato un piacere poi ci sentiamo ciao ragazzi buona serata buonanotte buona serata allora aspetta che qua non so come cazzo cos'è ah spegni qua no vai col tasto destro sulla fotocamera della webcam di OBS fai attiva e dovrebbe ripartire e poi si è a posto ah ok aspetta vediamo se vediamo un po' cosa ha fatto si è censurato non lo so cosa cazzo ho combinato non vuole più primaveramente hai cliccato su spegni fotocamera in basso sì eh sì però non mi si sta attivando di qua devi chiudere chiudi la live chiudi la live chiudi e fai il tasto destro su webcam proprietà attiva però prima devi chiudere streamer se no non si attiva e come cazzo si chiude streamer ah lascia lo studio qua sì lascia lo studio chiudilo con x la pagina dovrebbe ah perfetto ah proprio così brutale sì 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 brutalmente bene bene ragazzi buonanotte ciao ragazzi ciao allora vediamo se ragazzi scusatemi un attimo voi starete vedendo cose perdonatemi ma vediamo se va attenzione va e voi direte che diavolo è questo è tutto allora ragazzuoli noi la chiudiamo qua a questo punto non c'è neanche bisogno di far entrare Andrea tanto stiamo è veramente tardi ormai spero vi sia piaciuta questa serata scazzo giusto per così per rilassarci in compagnia ovviamente del buon Andrea spero vi siate divertiti io sì perché c'era bisogno di rilassarsi un attimino fate i bravi fate i buoni ci vediamo domani alle 21.30 con la Horror Night domani facciamo la serata Itzio con con Itzio continuiamo anche Zonomaly quindi teoricamente lo finiamo e poi portiamo altri giochini interessanti tra cui anche una specie di ripoff di Animal Crossing versione Horror che non vedo l'ora di provare insieme a voi e niente fate i bravi fate i buoni e noi ci vediamo domani alle 21.30 va bene guarda io ragazzi non vedo l'ora che arrivi aprile perché ad aprile vediamo la prima puntata dei Ghost Fuckers non vedo l'ora ragazzi non vedo l'ora fate i bravi ciao bestiace ciao ciao